Allora, ciao a tutti, io sono Maxi, sono qui in rappresentanza dell'Arti, l'ente che insomma insieme ai ragazzi di Essere Europa ha organizzato questo, anzi loro l'hanno organizzato, noi abbiamo supportato più che altro questo piccolo corso, che è piccolo perché è breve ma molto compatto, però è importante ed è innovativo, è la prima volta che il lavoratore al basso proprio focalizza il tema dell'immigrazione e della integrazione proprio di chi viene da fuori, come mi vedete che sono bionda, un po' più bianca di voi, anche io non sono di qua, cioè entrare non solo nella cultura ma anche nel mercato, trovare un po' un proprio ruolo, un proprio posto nella società a 360 gradi. Cosa vuol dire integrare? Cioè io vengo dalla Germania, sono venuta qua nel 2006, sembra una cosa abbastanza scontata, è facile ma non lo era per me. Ma non voglio piangere, è giusto, voglio condividere un'esperienza che per me che mi vedo come comunque cittadina europeo, che ho comunque viaggiato prima, ho incontrato l'italiano in Norvegia, prima ne parlavamo, mi ha portato qua perché ho detto vabbè in Italia, lo vediamo, troverò lavoro, farò qualcosa, saremo insieme. Già quel fatto troverò lavoro, per me che sono comunque come c'è tanti qua, europea, pensiamo questo mondo europeo, andiamo dove vogliamo, ci integriamo, troviamo lavoro, siamo tutti uguali, non era così, io sono del nord della Germania, vengo del sud dell'Italia, era il primo culture shock nella mia vita. Parliamo di due paesi che hanno fondato i primi passi della comunità europea insieme negli anni 50, cioè parliamo di paesi che sono molto vicini e che comunque lavorano insieme da recenni. E nonostante ciò per me era difficilissimo arrivare qua, la lingua, la cultura, le abitudini, gli orari, un sacco di cose. Ora io mi chiedo, se per me era difficile, per chi viene ancora da più lontano, per chi deve affrontare ancora altri aspetti, per chi magari ha ancora più difficoltà di entrare in un mercato di lavoro che è proprio di un'altra, c'è un altro mondo, cioè come deve essere? Per me è veramente solo venire con una famiglia che mi accoglieva, con un ora marito che mi voleva bene, con amici che mi prendevano con le braccia aperte perché c'era uno che conosceva e che voleva bene a me, allora tutti volevano bene a me perché qua è così. Era difficilissimo per qualche anno, poi parli la lingua, entri e vabbè. Allora pensiamo, chi non ha tutti questi presupposti, la famiglia che ti attende, amici, chi ti prende la mano, ti guida, chi ti aiuta a trovare lavoro, chi ti insegna la lingua, come deve essere difficile? E quindi questo è il mio saluto, un po' più personale oggi, avete capito il lavoratore del basso cos'è, avete capito che parliamo di formazione imprenditoriale in un modo un po' diverso, non formale, una formazione come ho sentito anche stamattina già avvenuto, di molto dibattito, di interazione, di docenti che hanno delle esperienze che sono magari non tanto di aula ma di vita, di vita anche imprenditoriale loro, che condividono con voi, che voi avete scelto per fare un passo insieme. Io penso che parlare di come integrare, creare delle aziende, delle imprese sociali che integrano persone che vengono da fuori per tantissimi motivi, che magari non hanno avuto un cammino facile finché sono arrivati qua, sia una cosa importantissima. vedere anche come valorizzare la diversità, la omogeneità di un insieme, di una comunità che sempre cresce e cambia è molto importante. E questo è anche un momento molto importante perché vediamo un sacco di notizie che sono spiacevoli in questi giorni, in queste settimane, in tutta Europa e in tutto il mondo. Quindi io veramente vi auguro non solo buon apprendimento, buon divertimento, ma bocca al lupo per tutto quello che spero potete fare nel futuro e che continuiate a seguire questo cammino importante, non posso dire quanto è importante sempre di nuovo, con tutto il successo, insomma, che vi meritate e che spero ci sia anche nel futuro. Qualsiasi cosa che possiamo fare per darvi una mano ci saremo sempre. Niente, grazie a voi per questa bella realizzazione, per questa bella iniziativa e sto un po' a sentirvi, a conoscere anche un po' i vostri punti di vista. Grazie Maxi. Passiamo la parola a Sofia Ramirez-Fionda. La introduzione è stata utile perché precisamente oggi quello che stiamo studiando un po', penso dal mio punto di vista il foco di questo corso è fare un progetto, essere capaci di sviluppare un progetto, avere le idee basse per farlo, però sempre che pensiamo a un progetto o qualche idea dobbiamo avere delle idee basse per portarlo avanti, in questo caso quello che parliamo è l'argomento della migrazione, la situazione degli immigrati, ma pure altre teorie, altre idee che vedremo in queste ore che sono il concetto di diversità, il concetto per se stesso di integrazione e poi altri che… va bene, nuove idee sul multiculturalismo. Allora, oggi vedremo questo, domani vedremo la situazione, penso che Nicolò lo ha detto comunque, la situazione degli italiani all'estero, cioè un punto di vista un po' all'inversa quando è toccato migrare di qua. Cominciamo un po' con il contesto europeo al riguardo delle migrazioni, del fenomeno migratorio, per farci un'idea di qual è la situazione, perché come abbiamo menzionato la prima parte durante la mattina, negli ultimi anni il fenomeno migratorio si è intensificato nell'Europa, ma pure in tutto il mondo. Abbiamo accenato alcuni motivi per questa situazione, cioè i costi che sono sempre di meno, i conflitti che si generano nelle vicinanze dell'Europa, tutto questo porta ad avere una situazione diversa, cioè che i migranti si muovano di più. Nell'Europa in particolare abbiamo 500 milioni di europei, ma la popolazione, scusate, un po' più di 500 milioni di persone, di abitanti, il 6% sono persone nati fuori dall'Europa, e il 4% non hanno proprio la cittadinanza europea, che è un percentuale alto direi. Poi c'è anche un numero di domande di asilo ogni anno, per questo che dicevamo, dei problemi, dei conflitti che sono nelle zone limitrofe dell'Europa, e non solo. ma dall'altra parte c'è una situazione particolare dell'Europa che riguarda l'invecchiamento della popolazione, come affetta questo l'economia, cioè ogni volta c'è meno popolazione in età attiva di lavoro, più in pensione la vita si allunga, cioè la esperienza di vita è ancora più lunga, questo pone dei problemi economici, che ormai sentiamo da tanti anni, però il problema continua a essere presente. Comunque un parentesi, nonostante questa situazione sia generale, dal punto di vista dell'Europa si capisce che, tu l'hai detto questa mattina, che le situazioni cambiano d'accordo alle regioni, ogni realtà ha le sue particolarità, non ci sono soluzioni per tutte. Infatti la Unione Europea sempre cerca che le soluzioni sorgiano di ogni realtà, del più basso possibile. Però questo è il panorama generale. Allora, da questo punto di vista, la Unione Europea ha un punto di vista più economico della migrazione. Prima dell'anno 2005 il fenomeno migratorio era considerato soprattutto dentro dell'area di sicurezza, di politica estera, che è l'area forse meno sviluppata delle politiche comune, la politica estera comune. Ma poi dall'anno 2000-2005 ci ha cominciato a notare certi cambiamenti nella politica. E la migrazione riguarda, cioè ci sono due aree importanti. Una è l'asilo politico, perché è proprio un argomento da considerare a parte. Infatti noi non studieremo l'asilo nella Unione Europea perché ci vuole un corso per sé. Ma dall'altra parte il riconoscimento della migrazione come un motore per lo sviluppo economico e per far crescere la ricchezza culturale del processo di integrazione dell'area europea. E questa è una situazione che si riconosce proprio che l'Europa è nata della diversità e di diverse culture e quindi non c'è una ragione per fermare questo processo. Per raggiungere l'integrazione degli immigrati, per far che loro siano il motore dello sviluppo economico, siano parte dello sviluppo, bisogna accettare l'integrazione. Questo è diventato un obiettivo, l'immigrazione degli immigranti regolari, un altro argomento che sempre si sente nell'Unione Europea, a partire dalla strategia Europa 2020 e il programma Stoccolma, che non vedremo in dettaglio, però che stabiliscono sì l'integrazione come un obiettivo politico nell'anno 2010, tutte e due. Quello che forse ci possiamo domandare qua è se i migranti contribuiscono allo sviluppo economico, da una parte, e dall'altra parte, che mi sembra più importante, perché anche la ricchezza culturale è una cosa gradita per l'Unione Europea, o per l'Unione Europea, per noi, se siamo d'accordo. Nell'agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, come i cittadini di paesi terzi, si intendono questo 4% della popolazione che non ha la cittadinanza europea, che abita regolarmente nella Unione Europea. Si riconoscono certe sfide per l'integrazione che sono ancora presenti e che devono guidare tutte le idee, tutti i programmi, gli strumenti che partono dagli stati, dai governi di diversi livelli, dagli altri attori e pure dalla Unione. Da una parte i livelli occupazionali degli immigrati sono ancora bassi, se si sbaragona con quelli della popolazione con cittadinanza europea. E soprattutto c'è il problema delle donne, che, come abbiamo menzionato questa mattina, il fenomeno migratorio nelle ultime decade si è femminizzato, si dice? Ci sono più donne che migrano, però almeno la Unione Europea non riescono ancora a trovare uno spazio dal punto di vista del lavoro, cioè accompagnano di più le famiglie, però manca un po' un'inserzione da quel punto di vista. Una seconda sfida è il fatto di avere una forza di lavoro immigrata sopraqualificata per le posizioni che stanno ricoprendo. Cioè hai delle persone con certe capacità, con certa formazione accademica, con certa esperienza, che però quando vengono all'Europa si trovano a fare dei lavori che non si corrispondono con questa formazione. Poi altre sfide che comunque non saranno punti importanti per noi in queste ore. e il rischio crescente dell'esclusione sociale, che continua a essere considerato importante. La disparità in termini di rendimento scolastico dei migrati nelle scuole, cioè quando sono ancora minorenne. e poi la pensione pubblica per la scasa integrazione, che comunque noi focalizzeremo nei due primi punti, come ho detto. Per l'Agenda europea per l'integrazione dei cittadini nei paesi terzi, un documento della Commissione europea che è stato pubblicato nel 2011, ancora continua vigente e in vigore. In questo documento la Unione europea mette a disposizione degli stati membri certi strumenti che considera che sono importanti per involucrare diversi attori per l'integrazione dei migrati. Tra gli strumenti più importanti, vogliamo menzionare alcuni, e soprattutto quello che dicevamo prima della integrazione tramite la partecipazione. Nel modulo precedente il fatto di lavorare nei livelli più bassi, nei rapporti quotidiani dove forse riusciamo a capire meglio chi è l'immigrato, perché qua riusciamo a creare un ambiente proprio per il suo adattamento. dentro l'integrazione tramite questa partecipazione, cioè a livello locale, proprio quotidiano, la lingua è molto importante, cioè quello che fanno qua è riuscire a far capire a loro, a far imparare la lingua italiana e di sua importanza per l'integrazione, è un punto fondamentale. Poi la partecipazione al mercato del lavoro ha una particolare rivelevanza che vedremo in continuazione. Il lavoro sul riconoscimento delle competenze e i titoli di studio è un'altra area che si promuove per generare più strategie politiche, perché è un problema se qualcuno si è trasferito per studiare dentro l'Europa sicuramente saprà che è pure un problema il riconoscimento dei titoli dentro dell'Unione Europea. Quindi per quelli che vengono da fuori è ancora più difficile, extraeuropei. Un altro punto che è sempre importante è la informazione che si brinda agli immigrati sulla creazione di imprese, su non solo quali benefici, ma quali sono le procedure per avviare un'azienda o per generare un negozio, perché quello è considerato uno dei principali canali dell'integrazione, l'imprenditoria straniera. Infatti poi vedremo dei numeri sulla imprenditoria in Italia di stranieri che sono veramente numeri importanti per l'economia. Dal punto di vista dei minorenni che dicevamo prima e del sistema scolastico, la Unione Europea indica sempre la necessità di adeguare le nuove strutture scolastiche alla diversità. Adesso parleremo su cosa è il diversity management e come funziona e come beneficia le organizzazioni. Però bisogna avere personale nelle scuole ma in tutti i servizi sociali pubblici adeguato alle nuove esigenze di una popolazione di immigrati ogni volta più forte. Quindi servizi sociali e sanitari inclusi, che siano disponibili per tutti, ma pure che siano capaci di ricevere persone con un background diverso da quelli degli italiani. Poi per finire con l'agenda europea per l'integrazione è sempre importante pure la partecipazione politica che è un argomento che è diverso d'accordo al Paese e allo Stato membro dove si considera. La necessità di includere ai migranti nei processi di decisioni democratici attraverso la creazione di organi di consultazione e realizzare pure corsi di tutoraggio per farli a loro capire come funziona il sistema per quelli che non lo sanno e quali sono i loro diritti e obblighi. E l'ultimo punto è il convolgimento dei Paesi di origine, che però, questo è sicuramente una cosa che almeno a me mi fa un po' pensare, no? perché, un attimo solo, al riguardo della cooperazione con i Paesi di origine degli immigrati, la Unione Europea ha deciso esplicitamente di combattere, tra virgolette, i motivi per i quali gli immigrati arrivano alla Unione Europea, no? Nel mondo ci sono 42, no, nell'anno, sì, 2013, cioè sono dati abbastanza recenti, più da 40 milioni di persone, di rifugiati, sì, e 230 milioni di migranti in tutto il mondo. Nella Unione Europea, come abbiamo detto, sono 30 milioni, e il 22 milioni di questi vengono di Paesi che hanno problemi economici, cioè che hanno dei problemi economici e che quindi migrano con lo scopo di avere una vita, un lavoro migliore, in situazioni più favorevole. Allora, la strategia europea per questi, cioè per i Paesi che sono, che inviano dalle persone perché hanno problemi economici, quando c'è una situazione di guerra ovviamente è più difficile intervenire, perché se c'è una guerra non è che la guerra si può fermare per evitare il flusso di migranti verso l'Europa, no? È più, la situazione è più complessa. Ma poi però l'Europa ha cominciato una serie di accordi con i Paesi che inviano dalle persone per motivi economici, per aiutare tramite fondi di aiuto internazionale allo sviluppo economico di queste aree e per rinforzare il ritorno dei migranti, no? Cioè sono due aree diverse ma che si lavora sempre con il Paese di origine. Infatti nel 2007-2013 i fondi europei, l'Unione Europea aveva l'Integration Fund che era proprio per progetti destinati ovviamente all'integrazione dei migrati, cioè come lo dicono in nome, il Fondo per i rifugiati e il Fondo The Return che includeva la collaborazione con i Paesi per fomentare la migrazione circolare, sì? che ormai questo è un altro punto che volevo dire questa mattina e poi non l'ho fatto, che non solo la migrazione è cambiata in queste ultime, non so, decade, 30 anni, 40 anni, ma pure che adesso lo stilo di vita è cambiato, nel senso che non si migra una volta per rimanere in un Paese come hanno fatto gli italiani in Argentina, no? C'è una situazione di migrazione circolare, di vado a studiare fuori, vado a fare l'Erasmus, torno, ma poi riparto questi due anni nell'America studiando o facendo un'esperienza all'estero e quella è una popolazione migrante che è difficile di gestire alla fine, perché non è ne uno che se n'è andato, ne uno che forse torna, che forse no, che è transitoriamente fuori, che torna dopo e dopo avrà la pensione in Italia, ma è stato fuori 10 anni, quindi questi erano i fondi europei per la integrazione nel 2007 e nel 2013. Adesso nel 2014 ha cambiato la struttura e si è deciso di fare un solo fondo, il fondo per la migrazione e integrazione, che è infatti un fondo pure con un maggiore budget. è un po' quello che fa alla fine unificare un po' la politica dell'Unione Europea in materia di migrazione, non dividere il problema, il problema dell'integrazione, il problema dei rifugiati, il problema della migrazione circolare, del ritorno al paese d'origine, è tutto un complesso, una politica, non è una politica unica ancora, ma almeno riconosciuto come un argomento. Quindi, prima parlavamo dell'integrazione tramite la partecipazione, ma che è la importanza della partecipazione al mercato di lavoro, e su questo punto vorrei accenarlo come il più importante. perché della Unione Europea si parla sempre della, una delle sfide precisamente è l'incapacità di lottare contro la sovraqualificazione degli immigrati, che è sempre un problema lo stesso. Allora al riguardo abbiamo certi concetti che sono un po' di teoria della migrazione, e li possiamo dibattere insieme, se volete. Il capitale umano è un termine che si usa per che non tutti siano d'accordo, non tutti siano d'accordo, ma è un termine per definire ovviamente la capacità degli esseri umani, e non solo la capacità professionale, ma la capacità d'accordo alla fondazione accademica, per il fatto di essere una persona per se stessa. Cioè tutto il capitale che ha, l'attività che facciamo, c'è una parte umana che per me è la più importante, no? E allora capitale umano viene a definire quello, no? La partecipazione dell'essere umano. Ma quando parliamo di rapporti tra stati, paesi d'origine e paesi di destinazione, a riguardo del capitale umano e di questa sovraqualificazione dei laboratori, di questo inserimento nel mercato del lavoro, sono questi concetti che servono per identificare i problemi nella popolazione. Cioè se noi stiamo studiando l'argomento sia dei paesi d'origine sia dei paesi di destinazione, sempre servono, dipende dalla nostra perspettiva. Brian Drain sicuramente l'avete già sentito, no? Sì, traduciamo l'italiano, la fuga dei cervelli. Sì, è un argomento che ormai la fuga dei cervelli viene, non nell'Europa ma in tutto il mondo, dagli anni 60, che ha cominciato la discussione su questo argomento. Il Brian Drain è considerato un problema perché ovviamente le persone con maggiore qualifiche vanno via dallo stato nel quale si sono formate, no? E questo è stato considerato un problema negli anni 60 soprattutto perché questi migranti di solito avevano studiato nell'università pubblica, nella pubblica istruzione. Quindi poi si considerava una perdita il fatto che una persona vada via senza, cioè dopo approfittare i servizi del welfare. Cioè nel senso questo punto mettermi come dicevano in un corso del master, cioè formiamo ingegneri nucleari per poi offrirli gratuitamente alla Francia, cioè nel caso italiano, no? Sì, ma il problema è che si può considerare un problema ma forse non ha soluzione dal punto di vista perché, cioè quale soluzione puoi, non puoi forzare una persona a rimanere per il fatto che ha... Sì, però potresti magari, cioè potresti, il governo potrebbe magari cercare di fare una suddivisione del lavoro cercando di creare delle nuove opportunità per chi non riesce ad essere integrato all'interno di un mercato del lavoro preistorico. Sì, sì, certo, cioè potrebbe... Stare magari un po' più a passo con i tempi e creare una Silicon Valley qui in Italia piuttosto che farci scappare queste persone. No, ma sì, è capire quali sono le cause della fuga dei cervelli, quali sono i settori che vanno via, e cioè lavorare su quello. Comunque, se una persona si è laureata nella pubblica istruzione e vuole partire, può darsi lo stesso, cioè hai lavoro in Italia, comunque forse vuoi migrare. Cioè, la libertà prima di ogni cosa, però allo stesso tempo a volte questa scelta è anche obbligata, nel senso che comunque, ok, tu mi formi in una facoltà pubblica in ingegneria nucleare e poi non abbiamo le centri nucleari, è normale che me ne vanno in Francia. Cioè, hai capito? Forse è così. Ah, è pure una... Cioè, sì, nel senso, ho preso l'ingegnere nucleare come esempio, però nel senso possiamo tenere in considerazione altri ambiti economici, no? Sì, comunque quello che studi e quello che fai è pure una decisione propria. Dico, se studi ingegneria nucleare sai che sicuramente andrei a lavorare fuori. Sì. Penso, non so, sono idee. Pure potrebbe dirsi che l'idea è la pubblica istruzione gratuita. È il problema. No, no. No, ma sono diversi aspetti. Magari favorisci la formazione di figure professionali che gli possano servire effettivamente. Grazie. Per mettere il microfono. Ripeti, per favore. Magari favorisci la formazione di figure professionali che sono più adatte allo Stato, che servono più allo Stato piuttosto che altre figure professionali. Non che non permette la formazione di ingegneri nucleari ad esempio, però magari favorisci, non lo so, c'è una carenza in un determinato settore, per avere destini più fondi a quel settore piuttosto che a un altro. Sì, sicuramente. Potrebbe essere un'opzione. È un problema. Microfono, microfono. No, ma mi avevo detto che deve. Ho detto che magari favorisci. No, ho detto che non è che deve obbligare magari lo Stato a studiare questo, però favorisci perché c'è più bisogno di questo. Sì. Cioè, è inutile far formare 300 ingegneri nucleari e 100 ingegneri di lì. Sì, infatti quello è sempre il problema. Certo. E noi, in Argentina, cioè quello il problema penso che sia in tutto il mondo alla fine. In Argentina diciamo lo stesso che avevamo troppi laureati in scienze sociali e poi gli ingegneri non ci sono. E di qua a 10-20 anni, a livello globale, ci sarà un... Cioè, mancheranno milioni di ingegneri in informatica, per esempio. Però avrete un sacco di filosofi. Sì, sì. Come io, Torel. Posso dire una cosa? Scusa. Sì. Io non ci ho mai pensato, però ora vederlo scritto e sentire la traduzione. Brain drain, drain è drenaggio, no? Cioè, è un altro concetto. L'italiano la traduzione con fuga. Sì. Cioè, io non lo commento, lo lascio giusto qui. C'è anche il discorso degli investimenti... Spetta il microfono. In Italia c'è anche il discorso della mancanza di investimenti. proprio nel settore dell'educazione, che crea la fuga dei cervelli, si intende anche nell'ambito della ricerca, dove magari a livello universitario si raggiunge il livello della laurea, e poi nello step successivo non ci sono più possibilità, perché mancano materialmente i fondi. e quindi si parla di fuga proprio in questo senso qua, prima di andare sul campo del mercato privato, del lavoro. Sì, io non scusate... Comunque, questa visione, il brain drain, è legata a una concezione che pure abbiamo menzionato prima, del fatto di vivere l'economia come un gioco di... come si dice, di summa zero? Summa zero. Un gioco di summa zero. Cioè, uno perde e un altro guadagna. No? Cioè, un stato, in questo caso, un paese perde una persona, un cervello, e un altro guadagna, un capitale umano in più. Sì? Situazione wind-loose. Comunque questo concetto porta dei problemi adesso, perché, come abbiamo parlato, la migrazione cambia, non è più l'ingegneri che partiva cento anni fa per andare a lavorare negli Stati Uniti e poi non tornava più perché lavorava là. adesso è totalmente diverso perché vai a lavorare e poi forse torni. Quindi, hai... il tuo paese ha perso perché te ne sei andato per cinque anni, o invece ha guadagnato perché porti di più. Cioè, porti esperienza, porti più skills, più teltri di... Sì? Ehm... Brain gain non è che... non è quello che sembra che forse è la inversa del brain drain, no? Brain drain fa riferimento a una visione positiva della migrazione, dal punto di vista dell'educazione. E questo si va... cioè, è basato sulla idea e sul pure degli studi che dicono che quando un migrante è all'estero è pure un periodo di formazione, no? Per lo stesso paese. Se parliamo da parte del paese di origine, scusate. Quando un migrante è all'estero, un percorso di formazione forse non torna, però comunque la sua esperienza impatta positivamente nella popolazione. Perché non è che rompe... cioè, che... finisce tutti i rapporti con il suo paese. Cioè, ha degli amici, ha della famiglia, torna eventualmente, se non definitivamente, torna ogni tanto. Quindi, comunque, dal punto di vista dell'esperienza educativa può avere un impatto positivo. E anche perché... di tutte le rimesse che si inviano nel mondo dalle persone che lavorano, tra i lavoratori migranti e le famiglie che rimangono nel paese di origine, il 10% è investito in educazione. E quello è sicuramente un dato valioso. cioè... non è... E questo, ovviamente, sì, in relazione con il fatto che l'educazione è sempre... è associata con un migliore stile di vita, no? Con una migliore qualità della vita. Poi, abbiamo brain waste, che lo abbiamo menzionato già. è il fatto di avere lavoratori sovraqualificati in posizioni che non sono... che non vanno con le sue capacità, no? E questo è una... una situazione... cioè, è molto abituale tra i lavoratori migranti, perché... quando uno arriva al paese... ci sono... ci sono tante... tante cause che... che provocano la sovraqualificazione. Nella Unione Europea... c'è una... si capisce che c'è una certa correlazione nei paesi dove... le professioni sono più regolate dallo Stato. Come la Francia, per esempio, che ha tantissime regolazioni per poter... fare una professione qualificata che i lavoratori migranti che arrivano è molto difficile che possano inserirci in questo sistema. Invece, per esempio, il Reino Unito è uno di quelli che ha... ehm... meno regolazione nelle professioni dove c'è meno problema per l'integrazione dei lavoratori che hanno più qualifiche. Pure nella Italia. E altri aspetti... ehm... non so se... forse... volete... forse vuoi... contribuire con qualche idea su quali sono le difficoltà per quando sei un lavoratore qualificato e arrivi in un paese diverso. Pure io potrei farlo per la mia propria esperienza. O forse... ci vuoi raccontare di... della Scozia. non è proprio interessante... no, no, non è un'esperienza, però forse... per esempio io... ci sono, sì, le difficoltà, è chiaro... chiaramente non avendo esperienza nel posto, in un paese in cui conta molto di più l'esperienza che la qualifica, si hanno difficoltà nel trovare lavoro nel proprio campo, sì. Quindi sicuramente è diverso la formazione dei professionisti là che nell'Italia. Sì. Forse qua si valora di più la formazione e l'hai bisogno di avere esperienza. Sì, non esistono concorsi pubblici... queste cose... No. No. Si fa esperienza durante il percorso dei studi ed eventualmente anche il datore di lavoro che ti paga l'università. Questo nel campo sociale, dell'assistenza sociale. Negli altri campi non ho molta esperienza. Però sì. Infatti dalla mia esperienza potrei pure segnalare un problema dell'Italia a riguardo di questo, che è il fatto di avere i permessi per lavorare. L'Italia, nonostante, è segnalata nell'indice di integrazione... C'è un indice di integrazione dei migranti che lavora con questo, il Mipex. Si vede? Ah, sì. Allora, questi sono i paesi... L'indice comunque si fa in parecchi paesi del mondo. Io ho scelto l'Europa in questo caso, no? Questo è l'accesso al mercato del lavoro. L'Italia, comunque, è un posto dove è favorevole l'integrazione del mercato del lavoro. Che per me è stata una sorpresa, sinceramente. Non avevo pensato che entro l'Europa. la Francia, invece, non è favorevole. Questi paesi sono un termine medio, cioè la Scozia e la Belgio. Ma un problema è pure i permessi per lavorare. Una cosa da avere in mente. I permessi per lavorare è l'accettazione dei migranti nella pubblica amministrazione. Io, infatti, quando sono arrivata all'Italia per studiare nel 2012, avevo permesso di soggiorno per motivi di studio. Nella Italia penso che la legge Vossi Fini è stata introdotta nell'anno 2002. È stato un cambiamento molto importante per la possibilità dei lavoratori di arrivare nel paese, trovare un lavoro e avere il permesso per fare questo, effettivamente. che, infatti, con la legge Vossi Fini non si poteva fare più. Cioè, hai bisogno di chiedere un visto prima di arrivare all'Italia, poi arrivare qua. Cioè, e praticamente avere un lavoro... Avere un lavoro prima di arrivare all'Italia è praticamente impossibile. Cioè, non esiste proprio. Cioè, non trovi un lavoro in Italia mica se sì. Sì, sì, hai bisogno di una procedura, di un sacco di burocrazia che ovviamente è mirata a fermare la migrazione. E la cosa più ironica è che di solito... Cioè, per queste leggi la scusa, diciamo, la giustificazione è fermare la migrazione irregolare. Quando, infatti, la migrazione irregolare non si ferma perché ha altri motivi, no? Però è sorprendente come... Microfono? Sì. Io parlavo con un professore italiano in Spagna che lui si occupa proprio di immigrazione, di permessi di soggiorno. È sorprendente come i calciatori, quando hanno bisogno di un permesso, viene concesso immediatamente. Ah, sì. Oppure i calciatori che hanno bisogno di una nazionalità per giocare, ad esempio, in Italia, come Gabriel Paletta, Amaury ai tempi. Delle procedure che magari per un lavoratore normale richiedono degli anni, in dieci giorni ottengono la concessione del Presidente della Repubblica per giocare. Sono cose abbastanza singolari. Sì, sulla concezione... In Argentina abbiamo avuto parecchi giocatori che hanno avuto la cittadinanza per poter giocare in Italia. Sì. Ah, per il fatto che avendo una famiglia italiana è giusto, no? È un diritto che hanno. Però che sì, che c'è... In dieci giorni si risolve. Sì, uno aspetta due anni per averla, tre anni e loro subito. Ma non è solo il problema della cittadinanza. Riguardo il permesso del soggiorno e del visto hai pure un datore di lavoro che sia disposto a dartelo. Cioè, un datore di lavoro che sia disposto a dire Oh, mi prenderò questo ragazzo che viene dell'Equador. Perché? Eh? E a pagare le tasse di questo conforto. A pagare le tasse. E pure il laboratorio a pagare tutti i costi del soggiorno e del visto, che non sono pochi. Ehm... Su questo io ti aggiungo... Vabbè, sempre non extra comunitario a questo punto, però... Nel 2006, quando io sono arrivata qua, mi serviva ancora la carta di soggiorno. Cioè, quindi neanche in Europa, neanche con tutta l'Unione, tutto quello che c'è di regolamenti tanti quanti. La carta di soggiorno. Quindi... È quella legata al contratto di lavoro, che ovviamente poi è precario, eccetera, eccetera. Io ho dei carissimi amici che sono poi della Bulgaria e della Romania, che ormai comunque da anni fanno parte dell'Unione. E ancora ci sono difficoltà per tessere sanitarie e aspetti di questo tipo che sono sempre legati al contratto di lavoro. Quindi, in un contesto in cui comunque è difficile per tutti. Per chi poi non ha la cittadinanza o non è sposato, eppure essere sposato ho dovuto passare al consolato per farmelo riconoscere, perché poi non si sapeva. Ehm... Però, cioè, è una sfida continua. Se poi ci sono contatti di mezz'anno, di un anno, si deve sempre, anche per i servizi sociali, per quello che, insomma, è una sicurezza teoricamente dovuta. Ci sono un sacco di persone a 30-35 anni che ogni anno si devono recare a uffici vari per rinnovare delle tessere varie. Non è cambiato ancora. Perché, purtroppo, la circolazione dentro l'Unione Europea è bloccata pure per gli europei. Cioè, uno può spostarsi liberamente per viaggiare dentro l'Europa, ma non ha il diritto di decidere di cambiare residenza in un altro paese dell'Unione Europea. Non è legalmente possibile. Io non posso stare più di tre mesi nella Germania se non ho un contratto di lavoro. Sì, posso o non posso? Ah, ho ragione. Questo dipende anche dal paese. Cioè, il paese dovrebbe farlo fino al punto in cui è disposto a farlo. L'Unione dice sempre, vorremmo che sia così, ma scegliete voi come lo applicate al vostro contesto nazionale e poi sono quelli dei tre mesi. Sì, 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 però non è che se io decido domani di trasferirmi in Germania, stare là senza lavoro per un anno per vedere cosa faccio. Cioè, posso avere i soldi per campare un anno senza lavorare, però non mi è permesso legalmente. Che comunque è anche un problema dal punto di vista dell'enforcement della legge, no? Perché, vabbè, tu non puoi stare qua più di tre mesi, però come controllo che sei tornato in Italia? Cioè, se io vado in Germania, io italiana, vado in Germania, voglio stare più da tre mesi, hai quinto messe, mi dicono, tu stai qua da troppo tempo senza un contratto, non hanno messo un documento per controllare che io non sia tornata. Io posso dire che sono tornata tre volte in Italia, in cinque mesi. Ma basta che lo fai pure. Cioè, a parte che lo puoi sempre dire, anche ai tempi della carta di soggiorno, era sempre quello ragionamento. Sì, sì, no. Ma poi, basta che per una settimana effettivamente torni durante la vacanza, vai in Puglia, per dire. No, ma voglio dire, se non lo fai, nessuno lo può controllare. Ah, è chiaro. Perché nessuno ti controlla nelle frontiere, quindi hanno delle contraddizioni interne, che ovviamente perché ci sono degli stati che hanno ancora delle salvaguardi. Cioè, si rifiutano un po' a completare questo processo di libera circolazione totale, ma allo stesso tempo, ormai la libera circolazione c'è, quindi con i rifugiati capita lo stesso. Cioè, se io vengo e chiedo lo status di rifugiato qua in Italia, poi transferirmi in altri paesi, paesi della Unione Europea, tra gli stati membri, è un problema. Infatti non potrei farlo teoricamente. Ma ci sono i rifugiati che arrivano in Italia e chiedono l'asilo in Germania perché, capì, vogliono andare a arrivare direttamente all'Europa del Nord. Dove eravamo? Ah, brain waste. Torno indietro. Allora, il brain waste è una, cioè, si può vedere la perspettiva dello stato di origine e dello stato di destinazione sempre, no? Perché in questa situazione entrambi i paesi perdono, no? Se si vede che uno perde il cervello che è andato via e l'altro perde perché è un spreco di capacità che potrebbero essere impiegate in altre attività produttive e invece non si stanno utilizzando, no? Tutta la formazione, tutto il capitale umano che è una persona non si sta usando di forma effettiva. Poi, nell'ultimo posto, abbiamo brain circulation che comunque abbiamo già parlato un po', che è un paradigma totalmente nuovo della migrazione proprio dei nostri tempi, sì? Che fa riferimento al movimento di professionali altamente qualificati e vincolato al processo di globalizzazione degli ultimi decadi, sì? Di questa capacità che abbiamo di muoverci, di spostarci, ma poi di tornare indietro e di decidere ormai con pochissimo tempo dove andare e cosa fare, no? Però non è, ormai per il brain circulation non c'è una prospettiva dal punto di vista dello stato, non c'è un punto di vista dallo stato membro dell'Unione Europea o di qualsiasi paese di origine. Ma è un problema dal punto di vista di misurare i flussi migratori e tutte le rete che si generano a livello globale ormai tra tutte queste persone, sì? Ed è correlato con una, la brain circulation è correlato con un termine che è quello di immigration culture, la cultura della migrazione per se stessa, sì? Che si considera un atteggiamento, cioè la prospettiva di migrare e la consapevolezza che la migrazione è possibile e che ha dei risultati positivi, sì? E questo è proprio, cioè proprio dei nostri tempi. Avete qualche domanda su questi? Quindi il brain circulation... Il microfono, Vittorio. Brain circulation come, non so, homo migrants, cioè un uomo che si sposta naturalmente senza ostacoli, cioè come se fosse la cosa più naturale del mondo. Eh sì, è un po', sicuramente tu lo vivi pure, così. Però in questo caso parliamo di persone altamente qualificate, quindi ricche appartenente alla sfera occidentale del mondo. Cioè parliamo sempre di questa parte del mondo. No, perché? O comunque classe dirigente di un paese africano, latinoamericano. No, parli di persone che hanno un certo livello di educazione del quale tu sei parte. Perché non è, cioè, ormai l'educazione, la high skill. La Unione Europea definisce la high skill migration come delle persone che hanno un titolo di master oppure penso che cinque anni di esperienza professionale. Una cosa che non è, diciamo, non è un'elite, cioè è un'elite a livello globale. Non ci sono tante persone che aviano degli studi di postgrado, di post laurea, che continuano avanti nel percorso académico. Infatti viene la directiva della Blue Card, la conoscete la Blue Card, del Permesso della Unione per High Skill Migration. La si definisce quale sono i requisiti per essere considerato high skill. Sì, mi pare che, mi offro ancora una volta le cose di cui si parlava questa mattina, che il diritto alla circolazione rimane sempre un diritto esclusivo, è stratificato per gerarchie di capitale nel senso economico che nel senso di competenze cognitivo. Quindi che questo diritto alla circolazione all'interno dell'Unione Europea, ma non solo, anche a livello internazionale, perché comunque i spazi sono sempre chiusi e difficilmente penetrabili, a meno che non ci sia la capacità economica come un calciatore, no? Un calciatore è un grande ammasso di capitale, perché in fondo è per quello che trovano i visti, perché insomma, perché producono in qualche maniera, ma non sono un calciatore, adesso i calciatori sono sempre gli esempi tipici, perché li conosciamo tutti, però qualsiasi imprenditore, l'esempio di questa mattina, questi circolano, non hanno le barriere, il passaporto non è che devono trovare il datore di lavoro, hanno dei visti speciali, non sono problemi, e quindi anche la circolazione in un mondo globale è apparentemente aperta, almeno secondo le retoriche di questo spazio veloce, comunque sono fortemente stratificate, gerarchizzate a seconda delle classi, per ritornare a... Quindi, primo uomo, secondo uomo, un uomo e poi un uomo in via di sviluppo. No, è vero che comunque la circolazione è stratificata e ovviamente non è disponibile per tutti, ma allo stesso tempo è vero che ci sono sempre di più persone che hanno accesso a mobilitarsi nel mondo. Cioè, ormai penso che cento anni fa nessuno pensava in andare per un weekend a Budapest. Io ho fatto Buenos Aires-Roma tre volte negli ultimi due anni. Quello era una cosa che quando ero piccola, quando i miei avevano la mia età, nessuno pensava proprio che sarebbe stato possibile, perché il costo di questa circolazione si abbassa. Piano piano si è cominciato a... C'è pure più tecnologia che fa tutto più... Cioè, lo spostamento è più veloce, quindi avassa i costi dal punto di vista non del denaro, ma del tempo, da quello che perdi. Cioè, prima se dovevi venire fino all'Europa con un'imbarcazione, avevi un mese di viaggio, poi farti il giro dell'Europa, poi tornare, non dovevi lavorare, non dovevi studiare, ovviamente era riservato un'elite che era molto stretta. Questi cambiamenti occorrono. Il mondo liquido di Bauman, tutto liquido. Ecco, scusate, oggi per me è molto di esperienza anche. Però sulla brain circulation c'è una cosa ancora... Diciamo, l'ultima, la circulation. Sì. C'è un aspetto ancora, diciamo, più nuovo, tra virgolette, per noi non è nuovo, ma diciamo rispetto agli ultimi cent'anni lo è. Sì. C'è l'ICT, la possibilità di lavorare dove vuoi tu. Quindi c'è il cervello, magari lavora in telelavoro per qualcuno in un altro paese. è un caso mio anche questo. Ormai sono abbastanza accessibili i lavori che hanno come location anywhere in the world. Ci sono dei siti specifici su queste cose. Quindi io posso stare in Italia, in Germania, in Argentina, dove voglio, e lavorare per un ente, un'istituzione, quello che è in America, in Finlandia, in Spagna, o dove capita. che porta poi anche al concetto del win-win-win-lose-win-whatever, cioè sotto un nuovo punto di vista. A questo punto, comunque, io sono un paese, consumo là, vivo là, spendo là, tasse, non si capisce, non è facile. Dove andrai in pensione dopo? Però il cervello lo do a un'alternazione che quindi produce anche grazie a questo. La circulation ormai diventa anche sempre più astratta, inevitabile, ma anche, sì, non la puoi proprio mettere che io vado da A a B e se non so A, sto a B e lavoro là. Sì. Penso che va ancora avanti questo sviluppo. Però questo è sempre un elite. c'è un ristretto, cioè un ristretto, c'è un ristretto. Ma tutti i cambiamenti cominciano con un elite. Un ristretto gruppo di persone che hanno quella formazione, poliglotte, che hanno vissuto, che magari parlano più di una lingua, che hanno la possibilità di viaggiare. Il mestiere è per se stesso, un disegnatore web può farlo e uno che lavora la terra, ovviamente non la può fare. Ma anche uno che fa il manovale o il meccanico. Ti dipende dal tipo di lavoro. Cioè, sono magari persone istruite che lavorano con la tecnologia. Non è tanto in Europa quanto magari in America, dove veramente ci sono delle possibilità a distanza tra i lavori che non definiremmo magari di altissimo livello, di elite, di quello che è. Dipende dall'attività che fai. Cioè, l'infermiera, l'infermiera non deve necessariamente sempre stare al paziente. Non in tutti i paesi l'infermiera è riguardata una figura, cioè, e io spesso ovviamente mi scuso a mio fratello, perché ci sono paesi che l'infermiera non è di alto livello come formazione, come lavoro. Però puoi fare a distanza ormai traduzioni, tutto il lavoro del web, in sé, e tantissime altre cose che poi possono... e infatti quello sono tutti cambiamenti del paradigma del modello economico oppure dell'attività economica del mondo, alla fine. Essere capace di avere questa possibilità di trasferirti, di lavorare da qualsiasi parte del mondo, solo attraverso la connessione internet, perché fai quello ti fa pure diventare un concorrente in un'economia che forse non conosci. Perché ormai qua in Italia il lavoro degli sviluppatori lo fanno meglio i ragazzi che sono nella India e guadagnano molto di meno e quindi non sono mai stati qua in Italia. Pure io, io lavoravo come giornalista in Argentina per un giornale dell'America e il mio prezzo era molto più competitivo da quello concorrente da quello di qualsiasi giornalista degli Stati Uniti. Allora sì, sono tutte domande che cioè tutti i cambiamenti che eravamo forse abituati a vivere in un stato nel tipico stato di welfare o lo stato con le sue lo stato in azione con le sue competenze e che ormai adesso trova molto difficile adeguarsi ai nuovi alle nuove usanze flussi migratori cambiamenti economici cioè bene allora volevo parlare un po' della parlare con voi di cosa si capisce per integrazione per diversità ma soprattutto perché è una cosa favorevole o gradevole sì abbiamo detto prima che c'è bisogno di definire cosa è l'integrazione sì ovviamente ci sono tantissime teorie e tantissime forme da definirla e prenderemo una semplice per non fermarci troppo su questo argomento l'integrazione intesa come l'assimilazione o l'inserimento di individui o gruppi in un ambiente sociale dentro proprio di una comunità sì quindi quali sono quale pensate che forse sono i problemi della migrazione della integrazione abbiamo pure parlato questa mattina di solito per integrarci cioè un migrante si vuole intervare in una società trova delle divergenze culturali sì se le divergenze culturali sono ampie fa più difficile questa integrazione poi abbiamo menzionato la impossibilità di entrare nel mercato del lavoro ma anche può essere un problema la indifferenza dagli immigrati sì pure chi era che aveva menzionato oggi il fatto che c'era forse una persona che non si voleva integrare in una società due c'era un'altra ragazza là dietro che adesso non c'è no sì sì la scelta tranne quello che abbiamo parlato dopo che la struttura ti fa ti porta a integrarti o ti costringe a essere escluso in alcune situazioni può darsi pure che le persone non vogliono farlo il concetto di integrazione lo abbiamo visto nella strategia europea lo ripetiamo adesso qua parte della idea che la forma di la vera forma di integrare le persone è attraverso dei rapporti più bassi più alla base di tutte le cioè di tutta l'interazione sociale nella società italiana cioè il problema del razzismo che è forse la contracara dell'integrazione ci sono alcuni analisi che parlano su come questo il razzismo si esprime nelle istituzioni nella rettoria politica però questi problemi così come l'integrazione parte dei rapporti sociali cioè dei rapporti più bassi sociali pure il razzismo parte della relazione tra le persone una legge in Italia che può considerarsi razzista in qualsiasi parte del mondo io parlo dell'Italia perché adesso c'erano degli studi sulla è perché siamo qua però una legge in Italia che può essere considerata razzista come per esempio possiamo parlare della legge Positini se si vuole c'è alcuni componenti che forse non sono precisamente che spingono la integrazione il razzismo è lo stesso si sono sempre i rapporti per questo l'argomento di lavorare sull'interazione sociale e partire dalla base dai governi locali ma pure degli attori che fanno parte della società civile ci sono due concetti che volevo condividere e discutere con voi e tutte e due vanno oltre il concetto di multiculturalismo multiculturalismo intesso come la coesistenza in una società di diverse culture pacificamente cioè una società conformata di diverse culture da una parte abbiamo cosmopolitan sociability che tradotto sarebbe sociabilità cosmopolita sì sociabilità cosmopolita potrebbe essere considerato forse una skill cioè una competenza no e la idea è creare relazioni sociali mirate all'inclusione e all'apertura al mondo e all'apertura al mondo cioè non solo accettare e rispettare le diverse culture ma utilizzare questa diversità culturale per sviluppare il proprio territorio non solo dal punto di vista economico cioè capire quali sono i vantaggi di questa diversità e generare dei rapporti e delle network che ci permettano di di sviluppare le nostre capacità al riguardo se hai capito l'ho fatto un po' sì allora quindi abbiamo detto questo va oltre il multiculturalismo e questo tu non hai spiegato il concetto di transculturalismo lo puoi lo vuoi spiegare? perché mi sembra che è molto era un po' il discorso quando abbiamo proposto lo spazio transnazionale come uno spazio contemporaneo dove le identità non sono più chiuse con il concetto anche della frontiera che abbiamo provato ad utilizzare quindi dove il nuovo spazio è un po' che va in opposizione alla società multiculturale intesa come delle sfire chiuse delle culture che sì che vanno in contatto però di fatto restano serrate in se stesse mentre in questo spazio contemporaneo dove insomma è uno spazio migrante c'è chi ha usato anche il concetto di città migrante come città anche le grandi città globali che sono la meta di continui flussi di viaggi di informazioni di culture di persone sostanzialmente quindi non si parla più di un concetto multiculturale che indica una concezione chiusa dell'identità e delle culture e dei migranti ma di spazio transculturale proprio per il fatto di considerare questa apertura e l'interazione che l'interazione cambia di fatto la realtà e anche in opposizione al pericolo della segregazione insomma il discorso che abbiamo fatto alle periferie sempre riferendosi allo spazio urbano che insomma questa costruzione è profondamente differenziata di nuovo anche fisicamente degli spazi quindi anche delle relazioni e dove c'è il rischio serio che le culture restino sostanzialmente divise e non in contatto quindi sì forse questa era l'opposizione al multiculturalismo anche proprio dal punto di vista critico sì perché cioè di solito quando voi? no no per voi quali sono i problemi di accogliere un immigrato? pensate all'Italia ai vostri ai vostri alle vostre realtà se volete qual è il problema di portare un immigrato abbiamo detto il lavoro no? che c'è questa idea di rubare il lavoro ai locali alle persone locali no? poi? ma anche a livello religioso cioè il giorno di festa per un arabo è il venerdì se non mi sbaglio per un cristiano è la domenica quindi come facciamo a conciliare i giorni lavorativi che in Italia vanno dal lunedì al sabato con le esigenze di di questi immigrati che hanno comunque tempi diversi no? nella scansione della settimana sì potrebbe essere considerato un problema cioè anche perché cioè perché tu cristiano la domenica puoi andare a pregare in chiesa io musulmano il venerdì devo venire a lavorare sì questo altri? vabbè l'aiuto burocratico ah scusa è accesso? sì deve essere subito che non è difficile trovare un aiuto burocratico non so se hanno bisogno di qualsiasi a parte la lingua beh il primo problema e poi tutta la burocrazia che c'è in Italia per diventare legali ma quello è un problema per un migrante ah sì dico una persona come popolazione cioè come parte della popolazione italiana no? cosa può vedere di negativo in una persona che arriva in Italia? qualcuno pensa che se hai davanti un immigrato irregolare clandestino possa essere un pericolo anche per te perché lo stai aiutando perché lo stai non lo so o perché comunque se vuoi accoglierlo perché sono dei criminali non so se vuoi accoglierlo dico quella è una cosa di cui ha bisogno il processo di criminalizzazione è un fatto veramente importante sì proprio tra parenti nel momento che tu crei un illegale comunque tu crei un qualcosa che è fuori della legge che spaventa nel luogo comune ma in realtà nella vicina di casa viviamo in una periferia di una città piccola nel periodo nell'appoggio della bossifine quindi di questo continuo dove sono questi clandestini li guardavano dappertutto e questo permesso di soggiorno alla vicina di casa una fermata nell'autobus davanti a casa e ho visto una persona semplicemente di colore e ho chiesto ma tu ce l'hai permesso di soggiorno? sono barzellette che però insomma sono piccoli indicatori del fatto oltre al discorso che abbiamo fatto insomma di questo processo di legalizzazione e come avevi detto tu ma è palese loro sanno che entrano nello stesso non è che se tu sei clandestino non entri più perché non è quello il problema però che tu entri da clandestino quindi cambia le carte in tavolo anche dal punto di vista giuridico del lavoro perché fondamentalmente sono quelli che lavorano e d'altra parte c'è il fatto della percezione che comunque tu sei perseguibile per legge poi perché? perché c'è quello che entra irregolare ma c'era anche chi lavorava che ha perso il lavoro che insomma l'esempio che abbiamo fatto stamattina dopo dieci anni cinque anni dopo quanto sia all'improvviso ti trovi fuori dalla legalità vabbè ma è una cosa non da poco anche dal punto di vista della percezione di un italiano io qualche settimana fa sono salita sull'autobus a Roma il 105 tra l'altro 105 anni 18 e c'era una donna italiana una signora grande italiana un signore anche grande aveva tipo 50-60 anni africano non mi ricordo dove l'ho detto e lui si era seduto erano pure le dieci di sera e tornava con tutte le buste del lavoro il signore si è seduto in un posto e poi si è alzato perché qualcuno le aveva toccato le buste che aveva lasciate un po' lontane e quindi quando lui si è alzato la signora si è seduta nel suo posto senza rendersi conto ma hanno cominciato a litigare sono state 20 minuti cioè tutto il percorso litigando ma a un certo punto la signora le dice ma lei ha il biglietto? perché era cioè lei era seduta aveva il biglietto e ha detto se tu hai il mio posto hai il biglietto e lui e lui le dice se io fossi stato italiano non me lo non me lo avrebbe chiesto sì e forse un po' mi è sembrato mi è venuto proprio in mente mi sembrava proprio giusto aveva ragione se fosse stato diverso eppure si spaventava la donna perché era tipo un uomo grande che le urlava in faccia che voleva sedersi ma per esempio con questo con questo attentato nella Francia che abbiamo avuto purtroppo recentemente si sono cominciati pure ad alzare le voci con questi problemi sempre si alzano quei gruppi contro la migrazione o contro l'islam o contro no? e quali sono stati i problemi diciamo per i gruppi di questa indole scusa dopo l'attentato alla Francia sempre distorgono dei gruppi le pene in Francia altri gruppi qua in Italia che parlano della migrazione come un problema no? quali sono stati gli argomenti o quali sono di solito? io devo per forza rispondere perché purtroppo in Germania insomma per settimana anche prima l'attentato ma dopo è stato ancora più strumentalizzato ogni lunedì sono andati a marciare dei gruppi specialmente a Dressa dove erano migliaia contro l'islamizzazione vabbè non so neanche pronunciare della dell'Europa diciamo loro bravi europei patriotici contro l'islam no poi con tutti gli argomenti assurdi no ma non siamo contro gli emigranti non siamo contro cioè vogliamo l'integrazione cioè tutto quello però tutte le righe cioè gli stessi argomenti di sempre di creare paura eccetera eccetera il che poi con l'attentato in Francia purtroppo è stato strumentalizzato perché quello che dicevano per settimane settimane era prima di Natale che c'è questo pericolo c'è qualcuno che aspetta queste tragedie per venire a cercare voti che quello comunque non significa forse se ne stanno approfittando forse ne ci credono davvero e pensano che questi tentati sono dei problemi io dubito che ci credino davvero penso più che alcune persone che sono in politica sono talmente intelligenti intelligente inteso come offesa da essere talmente iene da approfittarsi di queste cose nonostante non ci crediamo davvero ma pur di racimolare qualche consenso in più di passare dalla parte del torto anche nel cervello stesso se io non la penso se la vado a pensare perché mi serve per ma loro lo dicono sì ma loro lo dicono perché poi hanno mi riferisco a nessuno in particolare ma un politico che dice che il problema sono gli immigrati per prendere dei voti e poi prende dei voti significa che ci sono le persone che ci credono che è vero quello e sicuramente il mio problema non è il politico che lo dice per praticità per guadagnare dei voti ma che ci sono tante persone che veramente lo vedono come una minaccia magari è per paura però sì io ho c'è un aspetto sociale anzi sì sì è venuto qua a suonare un po' di mesi fa il batterista francese che fa e lui diceva lui era proprio in Parigi vive anche c'era tanto una casa qua giù in Saletti nel momento un migrante per lui e lui diceva che a Parigi lui sentiva uno anarchico assolutamente non uno che si faceva spaventare dal nemico inventato del momento eppure diceva che era spaventoso quanti francesi proprio si stessero affiliando la pen no 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 all'islamismo estremista l'inversa sì che si spostava quando lì a in quel momento e siccome non era un po' successo niente ovviamente mi sembrava io sono caduta proprio dalle nuvole non sapeva assolutamente resistenza di Stato però lui ne parlava come appunto che giocavano sulla vuotezza magari sulla disperazione di tanta gente comunque povera ed era facile inculcare delle idee estremiste cioè ne parlava come di un fenomeno che nasceva a causa cioè per tante cause che poi creavano immaginazione e disperazione mancanza di riferimenti di questo tipo ma in tutto pure qua in Italia c'è un avuto dei casi delle persone che sono andati all'Isa alla Siria a tutti i bandi secondo me è la stessa cosa cioè sposare un'ideologia così forte come succede quando ci sono dei trattamenti si ritornano sempre al discorso delle banche aspetta dal l'elen si ritornano sempre al solito problema delle periferie nel senso se tu escludi una persona cioè è facile poi inglobarla in fenomeni estremistici no? cioè perché tu hai bisogno comunque di appartenere a qualcuno a qualcosa e la prima proposta che ti viene fatta è la prima carezza che ti viene posta poi tu ricambi con accogliere questo fenomeno estremistico però sì infatti c'è la questione anche dello ius solis sebbene molti ragazzi seconda generazione abbiano una cittadinanza francese sono francesi a tutti gli effetti però si parlava già prima degli attentati e ancora di più dopo gli attentati proprio di questa questione che nonostante loro abbiano questa cittadinanza però vengono comunque marginati vengono messi da parte e infatti non voglio adesso dare i giudizi però è una società fortemente razzista comunque quella francese io io penso che è un problema da partutto non solo nella Francia ma io credo che la Francia la Francia molto ma perché stanno raccogliendo quello che hanno pensato e tra i quattro generazioni adesso dopo la guerra all'Algeria prendendo a scuola cioè in Francia tu non puoi proprio parlare di non lo so di nazionalità di identità semplicemente di identità che non vuol dire per forza nazionalità cioè tu non puoi trattare proprio questi argomenti poi anche un altro fenomeno che si sta verificando dopo le crisi cioè la crisi delle ideologie del novecento stanno riportando di nuovo questa estremizzazione delle religioni cioè non c'è più un'appartenenza ad un'ideologia aggrappiamoci nuovamente alle religioni ritorniamo al passato cioè è una cosa stranissima no? abbiamo passato il novecento con l'iperlaicizzazione delle società e adesso nuovamente ritorniamo qua in Europa non in tutto il mondo ovviamente parlo cioè stiamo parlando di questo contesto qui sì però cioè io penso che comunque è un argomento molto più ampio no? si stesso dal punto di vista delle migrazioni ma penso che forse la nostra generazione pure un po' prima è cresciuta in un mondo che è stato tipo un lapsus sì dopo le guerre c'è stato un contesto internazionale che è stato un lapsus di pace tra virgolette tra virgolette se lo paragoni con le due le due guerre d'Europa ovviamente tutto quello che è venuto dopo è stato un paradiso sì paradiso cioè attentati terroristici un mese sì un mese no cioè persone ammazzate sì un modo diverso di concepire la guerra però tu non sei cresciuto per andare a combattere la guerra e quindi cioè tu come generazione no? no cioè nel senso io no mi riferisco alla generazione dei nostri genitori probabilmente sì 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 però c'è stata penso un intento tipo una pacificazione si dice pacificazione della società diciamo le guerre che erano ormai abituali sempre che erano una costante nella storia dell'umanità nelle ultimi anni per diversi motivi dopo la seconda guerra mondiale non è stata così così abituale o almeno non nel mondo occidentale nell'Europa o negli Stati Uniti quindi adesso ritorna la violenza e per noi è una cosa sconosciuta perché non siamo preparati per affrontare la violenza come sono stati preparati tutti i cittadini fino a 50 anni fa cioè nel senso io ti giuro che mio nonno non era preparato per andare a combattere in guerra no sì ovviamente nessuno penso che sia stato ben preparato per andare nel senso si è ritrovato a combattere una guerra senza sapere neanche il perché forse stiamo uscendo dal seminato però se adesso tu vai a fare il servizio militare per combattere in guerra sicuramente cioè in quella epoca tutti lo facevano erano costretti a farlo adesso tu dirai non lo voglio fare non sei sì non sei neanche obbligato ma se ci fosse un problema penso che è cambiata proprio la mentalità comunque è un'idea mia non so poi non sono d'accordo no no poi un'altra sempre parlando di guerra no cioè la guerra in Vietnam o la seconda guerra mondiale questi soldati americani neri che vanno a combattere cioè il fatto che i neri per sentirsi inclusi integrazione totale in una società cioè quindi si si pone come pedi sono disposti ad andare a combattere una guerra cioè senza sapere neanche per cosa combattere l'idea americani non c'erano ma c'erano ma c'erano un problema che sono legati a rivisti e queste cose qua e qui c'erano la c'erano di sotto non lo vedo comunque e lo comincio comunque questo questo dibattito era l'idea lo avete detto l'idea dell'islamizzazione della società no tornando al multiculturalismo e alla trasculturalità a questa posizione di essere una cioè di essere una società dove combinano molte diverse culture ha l'idea diversa di essere una cultura integrata no e dal mio punto di vista potete non essere d'accordo se lo volete alzete la mano potete dirlo la paura per esempio adesso è l'islamizzazione come un esempio no ma è solo un esempio che l'ho portato perché è recente no è proprio da adesso è poi una paura questa trasculturalità no no va bene devo rientrare è un piacere per me grazie grazie per i contributi per la collaborazione grazie a voi Roberto mi guardo tutto dopo ok perfetto ciao ciao grazie no che questa idea dell'islamizzazione come altre grazie a voi 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 la cultura ormai non è le parole la lingua la lingua ha delle influenze da tutto il mondo quindi per me è importante capire che questa trasculturalità è inevitabile è successa sempre è esistita sempre e poi questa idea di ma adesso questa idea averla di fronte dire forse la nostra cultura qualche giorno sparirà in un mix con un'altra che noi non vogliamo, è questo che genera un po' di paura penso. La paura più che altro sia la sostituzione di una cultura al posto di un'altra. Perché è importante. La paura più che altro credo che sia la sostituzione di una cultura che non è la nostra per far posto come all'islamismo, però il multiculturalismo visto come mix di culture non credo che sia un problema. No, no, ma forse non è abbastanza. In che senso non è abbastanza? Nel senso che non basta essere una città e avere diverse culture che combinano insieme perché alla fine questo nel futuro diventa una cultura totalmente diversa, cioè non puoi mantenere per tutta la storia dell'umanità. Quando il progresso credo che non ci siano problemi. Come? Fino a quando questo multiculturalismo significa progredire non credo che ci siano problemi. Sì. Non credo che siamo regrediti facendo mix di culture, anzi ogni volta che sia andato a mescolare qualcosa credo che la società occidentale abbia preso il meglio, fra virgolette, di ogni cultura, quindi come dicevi prima la paura fondamentale è che io credo non possa avvenire la sostituzione di una cultura meno progredita al posto della nostra. Sì. Ma non credo che sia una cosa molto prossima. Anzi. Ma per me no almeno. Cioè penso che la cultura europea, infatti era, come si chiama questo spazio italiano? No, uno spazio politico italiano di destra. Cioè ci sono tanti. Sì, sì, no, però... La Meloni? La Meloni, nel suo Facebook. Calderoli? No, la Meloni. Ah, la Meloni. Aveva messo... La Meloni? Sì, sì. Aveva messo sul Facebook una immagine, diciamo quando è successo questo di Charlie... Perdò? Non so come si pronuncia. Del attentato a Parigi, che diceva io sto con l'Europa cristiana. O io difendo l'Europa cristiana. Cioè è proprio... Ma è vero che la nostra civilizzazione sia basata sui valori cristiani. Ma non è vero neanche il resto. Anche perché il trattato di indipo c'è del 400 d.C. Non la europea di adesso. Ma voglio dire, tutta la civilizzazione, cioè duemila anni più di storia, la civilizzazione cristiana ha avuto delle... Cioè, dell'incidenza... Cioè, della importanza... Però, quello non è un argomento per dire... Non vogliamo altre culture, non vogliamo fare un... Cioè... Proprio qui dove siamo adesso... Il microfono. Il microfono, il microfono. Non possiamo sapere la storia. Grazie. Però, molto meno di duemila anni fa, qui, questo sud d'Italia, era oriente, puro. Cioè, perché c'erano i tempi di... Dopo, tipo 1300, fino al 1300, se non mi sbaglio, 1400, che fino al nord le democrazia, le monarchie europee avevano una loro influenza, mentre al sud c'era più l'influenza, no, dei paesi orientali, insomma. Che il cristianesimo si è... Ha fatto molta fatica a entrare nelle nostre... Nel senso... Duomila anni. A Bibo, Valencia, una provincia sferduta della periferia del mondo, cioè, c'era un tempio di Persephone. Cioè, la gente andava lì a pregare con i fiodellini, Persephone, la moglie di Ade. Stiamo parlando di cultura greca, superfagani. Cioè, quindi, come facciamo a dire la cultura europea si basa sul cristianesimo? Il sistema di valore nostro è cristiano. Sì, ma... La domenica, l'hai detto a te? Sì, però le festività cristiane non è che sono state inventate così. Non hanno fatto altro che riprendere le festività pagane dando il nome diverso. Il Natale, prima ci stavano, non so, i fasti, i fescenini, queste cose. Possiamo dire forse che quello è un esempio di transculturalità. Cioè, andiamo in Messico stesso, no? Ci sono città con nomi di santi cristiani e poi aggiungono nomi messicani, cioè, autoctoni. Cioè, giusto per far comunque rimarcare l'appartenenza al territorio, cioè una nuova cultura che si... Ma oggi, secondo me, non si potrebbero scontri di civiltà più invenzione mediatica per semplificare i scontri complessi. Grazie, Fandinton. Che io non saprei assolutamente spiegare, però sono molto complessi. Cioè, anche l'attentato che c'è stato, la Meloni che scrive Io sto con l'Europa cristiana, punto. Grazie a scrivere. Ha pubblicato una foto con... Cos'hai visto? Ha pubblicato una foto su Twitter, credo, su Facebook. Un insegno in arabo, in via... In via... Che aveva tanti a Venezia, in via di Corso. C'era un insegno in arabo. Ha pubblicato una foto, come per dire, no? Nel cuore della città, anche noi ci aspettiamo. Diciamo, noi insegniamo. Ma infatti... Io sono d'accordo con quello che diceva... Prima, che... Ormai non... Non abbiamo più le ideologie o i... Come negli anni Sessanta, o no? Negli anni Settanta. Per cui ci si aggrappa... Ci si aggrappa... Cioè, dobbiamo sempre appartenere a un gruppo. Quello è... Sì, secondo me è più che appartenere a qualcosa. Sì, nel caso dell'Islam è un problema. Nel caso dell'Islam è sicuramente un problema complesso. No. Cioè, tornando al discorso anche della Francia, secondo me... C'è anche il fatto che queste ideologie, che comunque erano egemoni, come il marxismo, per esempio, che erano un po' anche, insomma, hanno un po' dominato la sinistra, a meno a livello anche qua, mediatico, perché non era solo quello. Se andiamo a vedere, poi anche gli anni Settanta italiani erano... C'erano tantissime cose. Però c'è stata una sorta di egemonia marxista e con quella, no? Classe, differenze di classe e basta. C'è stata una rigidità concettuale di elaborazione. Cioè, da una parte la società stava cambiando, c'è stata una ritrasformazione profonda della società, no? Anche europea. Ma adesso, come so, prima, quando parlavate della Francia, no? Cioè, sembra una cosa incredibile la Francia. Sembra veramente... Cioè, è uno stato postcoloniale. Sembra che sia diviso con le leggi coloniali. E perché probabilmente a tutta questa parte, comunque critica, che hanno cercato di vedere il mondo contemporaneo in forma critica, come il marxismo, ma non solo, però sono sfuggiti degli elementi, ma proprio concettuali, che succedevano nelle cose che non vedevano. E infatti adesso ci accorgiamo che c'è della discriminazione, ma anche l'etnia, la pelle, la religione. Cioè, il genere, no? C'è la questione femminile che è emersa negli anni 70, è esplosa anche lì, ma probabilmente in ritardo. Cioè, in un momento dove comunque un mondo che si può chiamare liberale, si può chiamare comunista, si può chiamare liberista, come vogliamo, però come ha sfondato, e sono finite, tra virgolette, le ideologie, ma mica è vero che sono finite le ideologie. Perché l'ideologia del consumo, l'ideologia... cioè, viviamo sempre immersi in delle ideologie, che sia del denaro, non viviamo senza ideologie, no? Però probabilmente è crollata un po' quello che faceva da, in qualche maniera, da barriera, che forse, non forse, sicuramente anche i conflitti, cioè, gli anni, no? Il dopoguerra è stato così in Europa, perché c'era la guerra fredda, non è che è stato qui perché, cioè, per una contuntura particolare, perché c'era un conflitto, e anche sociale, così forte, perché poi, sì, c'era la pace, ma mica tanto. Cioè, in Italia si fondevano le piazze ovunque, negli anni 70 e fino ai primi anni 80, perché c'era vivo un conflitto, che in qualche maniera metteva tutto in discussione, però permetteva sia degli spazi di rottura, e sia anche di immaginazione di una costruzione diversa. Questo spazio è venuto a mancare, per fortuna, con tutte le critiche che ognuno può riservare, però i risultati sono questi. C'è una mancanza anche concettuale per esprimere un disagio, una stratificazione della popolazione. In Europa, non chissà dove, che a tratti, e a seconda anche dei luoghi, perché ovviamente ha le sue particolarità, ma è disarmante, è disarmante, credo. E quindi, insomma, ho fatto un giro largo, però anche, secondo me il caso francese è veramente, anche parlavo stamattina di cittadinanza, beh, questi sono francesi, hanno il passaporto, hanno tutto quello che vogliono, ma pare che comunque ci sono altre barriere, che vanno oltre, che vanno oltre anche la stessa classe, però è chiaro che hanno, comunque c'è una serie di limiti, c'è una serie ancora di confini da oltrepassare, che sembra infinita. Qualcuno vuole aggiungere? Forse possiamo formare, fare un break? Sì? Sì? Facciamo 15 minuti di pausa. Grazie. Sì. Sì, ve lo farei un appunto, che è un mea culto, che avevamo tradotto, avevo detto, la transculturalità, era il transculturalismo, che si oppone al multiculturalismo, che è l'aggettivo transculturale, quindi lo spazio transculturale. Ok, colpa tua qua. Colpa mia. Che ti scusa? No, non è il transculturalismo. Quindi, eravamo rimasti nel concetto, quindi, di integrazione, sociabilità comopolita, comopolita? Comopolita. Comopolita? Comopolita. Comopolita. C'è una divergenza, vedo dei criteri. Mi metto, mi metto l'accento greco, l'accento greco. E li metto quello argentino, quindi, comopolita. che andiamo oltre il multiculturalismo per creare relazioni sociali, migliorare l'inclusione, sviluppate tramite radioattività locale, però oltre la semplice convivenza, ma la adottando il transculturalismo, queste pratiche della sociabilità comopolita siano sociability practices, quello che si intende come questa attività che mira avere questo tipo di integrazione. Allora, il concetto che ci interessa pure oltre a quello di integrazione era quello di diversità. Sì? che comunque è un... cioè abbiamo... stiamo trattando degli argomenti che sono tutti correlati a sé, quindi un po' ne abbiamo parlato prima, adesso le facciamo... facciamo un po' un riassunto, ma aggiungiamo le nuove idee. La diversità può essere tra oltre diciamo tra oltre causa e risultato pure dell'immigrazione, sì? In una società diversa, i componenti hanno diversi background, diversi origini. La domanda che ci poniamo qua è come si beneficia la società della diversità, sì? Cosa porta la diversità per essere considerata un beneficio, per essere considerata gradevole, gradita, non gradevole, Gradita in una comunità. Allora, una delle idee che si sviluppa nella literatura sulla diversità dentro della società è che è una forza che libera la creatività. E forse può essere un po' può sembrare non così importante, cioè non è l'unica forza che libera la creatività, però infatti a me mi è risultato interessante che fosse nella literatura sulla migrazione e la diversità culturale che fosse tanto enfasi su questo argomento. Poi, questo è il punto di vista che penso che interessa dalla perspectiva politica, no? Cioè, se parliamo della strategia dell'Unione Europea, dei governi locali, dei governi nazionali, regionali, qualsiasi livello, la diversità porta un beneficio economico ed è pure provato che dal punto di vista privato le aziende che hanno una capacità di gestire la diversità, cioè il diversity management, hanno maggiori profitti e maggiori benefici da quel punto di vista. C'è un altro punto importante della diversità, il diversity management, che chiaramente le aziende che hanno un capitale umano più diversificato hanno pure più potenzialità per aprire nuovi mercati all'estero e aumentare il commercio a livello internazionale che hanno perché si adattano, si adeguano ad altre realtà. Cosa che non significa che un'azienda che non abbia, che non accolga come si dice approfitta 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 meglio il capitale umano che ha a disposizione. Nel senso che comunque scusate se ti interrompo, c'è un'azienda che delocalizza la propria attività imprenditoriale in un altro paese se assume magari questo paese si chiama Cina e assume un cinese è più avvantaggiato perché questo cinese può indirizzare l'impresa stessa nel muoves in quel nuovo si può generare un nuovo network dentro stiamo parlando di una nuova impresa in Cina o la stessa impresa che apre il mercato cinese tutte e due le cose perché se si apre un'impresa in Cina non ha senso parlare di multiculturalismo perché l'azienda è in Cina si però l'azienda in Cina è un'azienda italiana che non conosce quel mercato quindi magari ha bisogno di un cinese e perché non integrare questi immigrati cinesi non sono immigrati perché non in Cina no ma forse la diversità dentro l'azienda non necessariamente è migrazione cioè se fai dipende sempre dall'azienda in questo caso che lui e io penso per esempio al cluster di Prato ci sono tantissimi cinesi tantissimi a Prato in Toscana ci sono tantissime imprese italiane che stanno delocalizzando in Cina perché perché ci sono tanti cinesi anche che aiutano questi imprenditori italiani ad aprire imprese lì anche perché hanno dei mantenti già conosci una persona del luogo che ti dice come muoverti generi dei network sì sì dei contatti sì certo in quel caso bisogna vedere cioè non necessariamente è una gestione della diversità dipende come ti organizzi come azienda la gestione della diversità questo diversity management è proprio la capacità di avere dentro il tuo capitale umano persone con background diversi e quindi capire come approfittare meglio le sue capacità in funzione di questi background non significa soltanto essere disposto a chiedere un visto al tuo paese di origine al tuo consulato diciamo chiederti un visto per poter per 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 permettiti permettiti di venire in Italia e integrarti alla mia azienda ma di capire che siccome tu sei dell'Argentina hai una potenzialità delle abilità diverse che sono si sono originati nel tuo contesto in Argentina e che quello ti permette di fare cioè portare un valore aggiunto al mio business sì cioè non è solo è il complesso del capitale umano diciamo ok sì il diversity il diversity management include molte strategie che adesso non vedremo vedremo alcuni esempi dall'ambito pubblico tra queste strategie includiamo includendo pure quello che si chiama intercultural training e certificazione sulla qualità e la capacità di un'organizzazione di garantire pari opportunità ai lavoratori a riguardo di questo ci sono tanti progetti dal punto nati nell'ambito privato oppure stessi all'ambito pubblico nei quali si fa una auditoria su come i livelli più gerenziali sono capaci di gestire il proprio personale il proprio capitale umano fanno pure tipo la norma ISO sulla diversità questo come dicevo questa intercultural management è nato nell'abito privato perché si è capito questa cosa dei benefici economici adesso è stato adottato all'Unione Europea delle città cioè si sta veramente promuovendo impulsando Integrating Cities è un progetto infatti è nato dall'organizzazione Eurocities che si vede qua in collaborazione con la Commissione Europea quello che fa è Integrating Cities è uno scambio di buone pratiche good practices tra governi di diverse città ma non solo governi pure altri attori che possono essere coinvolti nella società civile a riguardo delle strategie di integrazione di migranti dal governo locale hanno firmato quello che si chiama il Charter on Integrating Cities che riguarda che riguarda le pari opportunità per integrare i migrati e ha come scopo accettare in inglese in inglese embrace abbracciare accettare la diversità delle loro popolazioni cioè delle popolazioni che hanno queste città che ormai è considerata una realtà nelle città di tutta l'Europa si cioè lo scopo di questo progetto è proprio di capire che l'integrazione è necessaria perché la diversità è un fatto che non può essere ignorato formano parte soprattutto un foro di scambio di progetti di buone pratiche perché non hanno EuroCities non è un organismo con potere decisorio però formano parte ormai 33 città europee e il mese scorso è entrato pure Toronto che è la prima città extraeuropea a essere parte a fare parte del foro ma sono città particolarmente meta di migrazione sì sì sono Roma Praga Parigi cioè tutte le capitali le città più importanti Milano formano parte di questo progetto sì hanno come sono città che precisamente sono la destinazione degli immigrati siano extraunione europea che dentro dell'unione europea e infatti questa è una cosa cioè una caratteristica che quello che vogliono pure promuovere la idea che c'è nella città c'è uno spazio diciamo per gli immigranti che di solito c'è la destinazione principale quando partono gli immigranti erano sempre le grandi città dell'Europa questa invece è una ricordate che prima abbiamo parlato di diversi progetti europei cioè come erano divisi i progetti europei questi fondi nel 2007-2003 c'è stato l'integration fund e tra altri progetti ha finanziato questo che si chiama intercultural mediation in selected hospitals in Greece quello che si è fatto negli ospedali della Grecia è un programma di mediazione interculturale che mirava a migliorare la comunicazione e forse a quelli che si occupano di mediazione culturale interessa che consisteva questo corso in particolare consisteva in un training di 40 ore che poi è stato accompagnato ancora nella attualità di un sistema di coaching e un call center per aiutare il personale dell'ospedale a gestire la diversità della popolazione della Grecia cioè nell'ospedale arrivano non solo ovviamente i greci ma anche tutta la popolazione straniera che vive nelle città è cominciato in Tessalonica e poi si è da uno spazio penso che pure a Tene altre città insomma negli tre anni che è durato il progetto hanno hanno ricevuto questo training 224 persone in 46 ospedali diverse e questo implicava queste persone parlavano 28 lingue diverse e rappresentavano 20 nazioni diverse se calcola che i benefici di questo hanno raggiunto di questo programma hanno raggiunto 16.000 pazienti che sono stati beneficiati della figura di un mediatore culturale e l'European Fund for Integration ha finanziato il 75% del programma poi l'altro 25% è stato finanziato dal Ministero dell'Interno Greco poi questi due sono due esempi di pubblica amministrazione cioè Eurocities è un esempio privato non privato tanto aziende ma intanto società civile che si coinvolge nel processo di partecipazione e integrazione questo è proprio la pubblica amministrazione e poi qua c'è un altro con la polizia della Spagna perché tutto questo che abbiamo parlato oggi ricordate che la Unione Europea è uno degli strumenti per cioè quei punti deboli che la Commissione capisce che ha bisogno di essere rinforzati per migliorare la condizione degli immigranti e l'accesso ai servizi pubblici così come gli ospedali cioè a volte un immigrante non sente che ha la capacità di regarsi un ospedale per ricevere l'assistenza della quale ha bisogno perché non si può spiegare non può dire cosa le succede cioè può presentare cioè noi andiamo e va bene ma poi una persona che non parla la lingua che è in situazione irregolare che c'è un sacco di problemi che non non gli permettono l'accesso a questo servizio con la polizia c'è pure lo stesso problema e sicuramente sarà ancora di peggio perché se sei in una situazione irregolare la polizia eppure perché questi stereotipi dei quali parlavamo prima sono presenti cioè sono presenti nella società e quello include il personale e la pubblica amministrazione allora quello che si è capito nella nella Spagna in due città della periferia di Madrid particolarmente per questo progetto è che i poliziotti aiutatemi con questo concetto la polizia ti può fermare per strada per chiederti la documentazione per chiederti se sei la carta identità il documento la polizia si capiva che erano stati soggetti a questa pratica ovviamente più immigrati dell'Africa che persone della Spagna e dell'Europa cioè che questo stereotipo dell'immigrato criminale aveva un forte una forte influenza nel lavoro della polizia e che non necessariamente è così per esempio nella popolazione delle carceri no? cioè non necessariamente è uno stereotipo che necessariamente ha un correlato nella realtà sicuramente ci saranno gli immigrati che commetono dei reati ovviamente come ci sono pure gli europei però aveva questa incidenza nel lavoro della polizia allora si è preparato un programma che si è chiamato STEPS Strategy for Effective Police Stop and Search ha avuto spazio in tre posti particolari la Ungaria la Bulgaria e la Spagna quello della Spagna è quello che ha avuto più successo in Gerona fu in Lavrada quindi i poliziati in questo caso hanno avuto pure un training ma altro che il training che c'era bisogno di capire come adesso noi pensiamo ai problemi della migrazione ai problemi dell'interculturalità degli esterotipi pure loro hanno ricevuto queste idee ma anche hanno ricevuto degli strumenti per analizzare i dati del suo lavoro in questi procedimenti a chi fermavano perché li fermavano in quale situazioni in particolari quali erano le motivazioni per fermare i cittadini dell'Africa e poi dopo alcuni mesi hanno cioè si è manifestato ovviamente un cambio nelle tendenze e in questa sovra rappresentazione che gli immigrati avevano nelle perquisizioni sì però come lo stesso che nel caso degli ospiti della Grecia dove hanno lasciato attivo un sistema di coaching per i mediatori culturali e un call center al quale chiamare nel caso che ci siano dei dubiti dei problemi cioè di avere un'assistenza nel caso della polizia in Spagna evidentemente anche hanno lasciato una piattaforma composta da diversi attori della società civile per fare un seguimento di queste cioè di questo atteggiamento della polizia e scrivere pure un handbook contro gli atteggiamenti xenofobi o razzisti che possa avere il personale di un servizio pubblico però va bene quello che si chiamano business case for diversity sono molti nell'ambito privato e nell'ambito pubblico l'Unione Europea infatti è un sito che poi se volete potete vedere che è molto interessante che è l'European Website on Integration che non so se è qua no che ha tanti esempi eppure se volete cioè se volete prendere le idee per diverse strategie diversi progetti pure può servire cioè ci sono buone pratiche che hanno avuto successo veramente nella integrazione degli immigrati con il microfono però con il microfono ho aspettato no una cosa perché così sembrerebbe che la diversità porta soltanto beneficio a un'azienda anzi l'azienda deve sostenere molti costi di gestione per applicare questo tipo di strategia costi di formazione costi di comunicazione e la diversità è un processo molto lungo a volte i tempi sono anche ancora più elevati e potrebbe facilmente fallire quindi i rischi sono alti quindi bisogna fare molto attenzione a decidere di attuare questo tipo di strategia sì dipende sempre quale azienda cioè del del cioè del tamagno l'ho detto con il microfono spesso l'ho detto con il microfono dipende sempre del tipo di azienda che hai qual è l'impatto che ha su un'azienda locale nazionale internazionale comunque c'è sicuramente sicuramente c'è un cambiamento al riguardo di questi cioè è una prospettiva nuova nella fine porta benefici senza dubbio sia nella società sia nell'azienda stessa però i rischi sono tanti eppure è introdotto un nuovo cioè un nuovo come si dice parametro se si vuole al riguardo delle risorse umane cioè del del recruiting delle risorse umane del capitale umano che questa adattabilità e capacità di lavorare in diversità è pure una diciamo un vantaggio per il capitale umano che l'azienda assume però sì sono processi che dipende dipende di quello che ti occupi cioè se ti occupi ovviamente se un'azienda locale cioè di una famiglia che lavora tutta la vita nel stesso paese sicuramente ancora non lo potrai incorporare o forse sì perché sei in un paese come quello che abbiamo visto nel documentario nel quale è assolutamente necessario non costa e sei disposto a farlo però nella sopra c'è un nuovo paradigma nuove idee che sono state accolti dai privati ormai da decade e pure i governi decenni decenni scusa grazie lei è stata brava che me l'ha segnalato decenni io ero convinto che si è successa decenni decenni decadi decadi decenni ok ormai è un paradigma che è stato con il della privata da decenni è che nel settore pubblico si comincia a incorporare che però trae cioè porta dei problemi a volte perché uno delle uno delle item che abbiamo menzionato prima sulla sull'integrazione dei mirati nel mercato del lavoro era precisamente l'accesso alla pubblica amministrazione di solito la pubblica amministrazione è chiusa ai nazionali quindi incorporare la diversità può portare pure dei vantaggi che non sono economici alla pubblica amministrazione perché non economici non economici dal punto di vista della motivazionale dal punto di vista della figura della stessa pubblica amministrazione agli occhi della gente si dell'efficienza nella che sono dei benefici importanti per un'azienda si in materia di tempi di quello che fai dei servizi che offri alla tua comunità e comunque ovviamente bisogna essere disposto a accettare questo paradigma della diversità cioè se un governo locale accetta ancora come nel video come si chiamava il paese del video Riace se il governo di Riace è stato disposto a cogliere la diversità e ha disegnato le politiche che servivano a quello scopo ovviamente se poi una società è più chiusa il governo più chiuso non è disposto ad accettare che la sua società è composta da integranti diversi ovviamente non ci sarà un riflesso cioè un specchio nelle politiche pubbliche ma è lo stesso con le aziende no? poco fa parecchi mesi fa a Roma c'è stato un caso molto che ha fatto un po' è uscito nei mezzi che è stata la vendita di una gelateria romana storica che si chiama il Palazzo del Fredo a un gruppo coreano forse ho capito forse ho capito di come stavi bene però non sono sicuro se è quella c'è una gelateria romana che si il Palazzo del Fredo si infatti non ho abitato in zona e non la conosco l'ho conosciuta quando è uscito tutto questo che è stata venduta ai coreani che lui aveva detto aveva minacciato di vendere ai cinesi perché il comune gli aveva messo delle limitazioni che si diceva avesse venduto però per questo non ero molto sicuro non mi ricordo se fosse se era anche una gelateria abbastanza no penso che questa l'hanno venduta alla fine poi non so come è seguito il caso dopo questi messi però in quel momento ho scatenato tutto un casino perché era tipo una gelateria tradizionale romana che adesso dei coreani non dei finesti niente a me mi è sembrato in quel momento un po' esagerata come reazione frente alla perché magari si sentivano legati personalmente a quella sì però non è che la gelateria arriva con i romani fino alla fine nella umanità non so il cambiamento il cambiamento e tutti questi flussi c'è lo scambio commerciale chi alleveranno magari chi alleveranno magari se la pizzeria da franco un giorno la compra non so uno del Bangladesh un po' trasculturalismo ormai devi cioè ti sei un po' privato di una parte di te stesso anche non essendo tua però eppure in questo caso in particolare quello che chiamava più l'attenzione che questi coreani che avevano comprato la gelateria volevano sportare il gelato a Corea che infatti lo facevano già ma volevano aprire cioè una catena all'estero gigante proprio gigante di questo gelato che comunque a Roma continuava no? ma vabbè cioè una stanzione alla fine non una cosa positiva no? sempre dipende dal punto di vista però ci sono la situazione perché alla fine il primo noere è una zona un po' di un calo sì 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 per questo diciamo per gli stanzi nel posto la torta per incontrare la goccia la goccia la fa strabocca il microfono no non posso essere l'unico vincolo del microfono Victor questo è razzismo Victor no la cosa è no cioè ma dilamore il microfono la ciliegina sulla torta anche perché i romani stessi hanno contribuito a creare quella situazione cioè no? cioè si è orientalizzato si è trasformato quel quartiere perché comunque i romani evidentemente gli faceva comodo vendere i propri beni immobili a chi aveva i soldi perché il proprietario ha capito che era molto meglio una migliore opzione migliore vendere esportare gelato perché è un business migliore che è rimanere sempre nello stesso negozio senza spandersi cioè sì però e comunque cioè Roma come città non è un piccolo paese nel quale puoi dire va bene voglio rimanere cioè è fatta proprio dello scambio degli immigrati da duemila anni più tremila c'era quel bellissimo grafico sulle città sullo scambio di intellettuali tra le città che ripercorreva la storia delle città nel Mediterraneo in Europa sarebbe bello da proiettare quel video se si trovasse sì sì me lo segno per domani sì magari intanto due minuti cioè si vedono proprio i flussi di persone che vanno e vengono da Alessandria d'Egitto ad Atene a Roma da Roma a Londra eccetera l'hai già raccontato no vabbè ma graficamente rende molto di più l'idea no? sì questo lo abbiamo potuto dire stasera così è un'idea un'idea va bene cosa vi sto dicendo? ah no che se volete andare al sito della European come si chiama? Web site integration ci sono parecchi casi di business case for diversity che possono essere utili per capire per capire la diversi progetti di integrazione sì ma tra l'altro nelle grandi non si fa come fa perché non le lascia accesso? nelle aziende internazionali ormai la capacità di lavorare in un team multiculturale è un requisito che chiedono sempre sì ma non è non è vago come il problem solving in realtà poi durante i colloqui ti chiedono proprio come affronti questo tipo di diversità che cosa faresti in questo caso e giudicano il tuo comportamento in base a questo sì 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 pure dipende dall'organizzazione dove fai ovviamente sì dove lavori però le multinazionali le agenzie internazionali nelle multinazionali ormai sì 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 è assolutamente necessario eppure negli urbanismi presenti o delle Nazioni Unite ovviamente o dell'Unione Europea sì e durante il training c'è sempre una lezione che dura ore sugli stereotipi per esempio sì ma gli italiani ma è vero no è anche molto giocosa a volte nel senso che si scherza ci si insulta a vicenda eccetera però poi alla fine della lezione si capiscono tante cose durante la lezione ci si insulta sì 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 i francesi puzzano gli italiani gridano gli spagnoli sì ah è una lezione multiculturale sì 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 no durante la formazione in azienda a me è scoperto due volte di avere questo tipo di lezioni funzionano e comunque la diversità non necessariamente è negare questi stereotipi no esatto all'inversa è accettarli capirli cioè perché da dove vengono questi stereotipi esatto e quando sono positivi perché gli stereotipi possono essere positivi e negativi sono sempre pregiudizi passati sull'esperienza oppure le informazioni che circola dai mezzi dai rapporti delle persone che conosciamo no ma possono essere positivi e negativi la importanza della diversità è precisamente capire quali sono i positivi le stereotipi positivi cioè fare il meglio con quell'informazione perché non è che vogliamo eliminare le differenze che abbiamo la diversità cioè si vuole promuovere la diversità precisamente eliminarla no esatto poi il concetto della lezione era sempre quello imparate dagli altri i tedeschi sono precisi imparate a fare come i tedeschi sto semplificando però in realtà era quello il concetto ecco sì fate le polpette come gli italiani siate precisi come i tedeschi infatti in tutto il materiale diciamo di questa lezione ho trovato una frase che mi piace la leggo che è brevissima come come fonte di scambio innovazione creatività la diversità culturale è così necessaria per la umanità come la biodiversità e per la naturalezza per la natura cioè alla fine penso che come ho detto prima il progresso che fa la umanità è proprio per la per la diversità che abbiamo questa mappa l'abbiamo visto prima comunque non lo spiego un'altra volta che il diverso accesso al mercato del lavoro con tutte le c'è ormai quando noi parametri che utilizzano per misurarlo però forse si bisogna dire cioè come riflessione finale pensiero finale di questo di questo modulo volevo tornare alla integrazione no e pensare un po' in cosa consiste riuscire a capire tra tutti in cosa consiste l'integrazione sì perché la mia opinione personale è che dell'Unione Europea si fa molto enfasi nel fatto dell'inserimento lavorale degli immigrati e dal settore privato c'è tanto lobby per l'integrazione degli immigrati però dal punto di vista della flessibilizzazione lavorale no c'è una gran lobby delle aziende per chiedere che sia più flessibile cioè si chiede la flessibilità lavorale per tutti non solo per gli immigrati però per uscire a assumere più facilmente un immigrato che ovviamente come abbiamo detto adesso nella Italia è molto difficile nella Francia abbiamo dei problemi cioè le situazioni sono diverse dentro l'Europa però è una materia che è molto regolata e difficile di gestire per le aziende no allora il settore privato non fa lobby per altre politiche di integrazione no fa per quello che fa parte del suo interesse ma quello cioè a voi vi sembra che basta l'accesso al mercato del lavoro per integrare un immigrato quello forse il 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 foco pure delle politiche europee no cioè dell'immigrato come parte dell'economia perché serve a sviluppare l'economia beh basta che consumi tu guadagni il consumo per il cittadino sì no non tanto no no vabbè grandi linee pensavamo insomma da domani cambierà un po' la struttura del lavoro almeno dopo le ore di Sofia e proveremo a fare insomma ideare un progetto a vedere un po' a raccogliere delle idee a fare degli esercizi anche di scrittura adesso pur insomma per il tempo veramente limitato che abbiamo per questo genere di lavori e l'idea era di insomma di provare a immaginare un progetto che vada a chiedere a partecipare per per un bando in cui si si offre un fondo di l'idea di 50.000 euro per dare insomma perché poi dovremmo immaginare un po' anche insomma sotto l'aspetto finanziario che poi insomma è sempre il problema principale e in cui il tema era di creare un'impresa una piccola impresa con che abbia come scopo principale l'integrazione ovviamente vive sul paradosso che dicevamo prima sulla legalità e l'irregalità insomma si parla solo di passaporto non europeo e che abbia quindi almeno il 50% dei di quelli che ne faranno parte che saranno fuori dall'Unione Europea almeno dal punto di vista del posto in cui sono nati e che sia nel contesto del socio-culturale come si dice che nel bando verranno premiate le idee che abbiano come idea quella di uno sviluppo socio-culturale quindi legata alla cultura tutto quello che può essere l'area di riferimento ovviamente è un esercizio quindi lasciando il progetto di un'impresa completo cioè l'aspetto di idee oppure vedremo le varie fasi della progettazione e poi le prenderemo singolarmente che c'è dall'analisi dei beneficiari quindi cosa chiede il bando magari può chiedere anche proprio lo studio del marketing sì no in realtà dividiamo vedremo prima quella che è la classica anche secondo insomma quello che è il modello nell'Unione Europea che è la classica divisione la classica struttura del progetto quindi le varie fasi come vengono divise e poi ovviamente non avremo il tempo di farle tutte ne prenderemo alcune che sono un po' base dove l'idea insomma proveremo a pensare come costruire un progetto ed insieme magari ci dividiamo in gruppi comunque l'idea è poi di condividere le idee e vedere un po' quello che viene fuori quindi quello che diceva Sofia adesso era insomma intanto a cominciare a porci dei problemi vediamo domani insomma di raccogliere qualche idea di confrontarla in maniera progressiva ci sono tante persone che lavorano in un ambito culturale eppure che lavorano con Miran quindi forse volevano condividere se sono già se stanno già qua con qualche idea che avevano qualche idea in mente da sviluppare possiamo cominciarle a condividere una domanda bisogna inventare un progetto che poi ha dei follow up che dopo cresce ha una roba di meno ovviamente noi riusciremo a fare solo una parte che è quella iniziale sì no ma cos'è da creare una roba che si consuma nel momento l'idea può essere nell'ambito dei servizi ce la possiamo pensare che abbia un ciclo di un anno sì che abbia un senso anche economico poi esatto sostenibilità sostenibilità sì ovviamente deve essere sostenibile è naturale che faremo la fase di ideazione non abbiamo tutti possiamo immaginarci i costi poi soprattutto se abbiamo delle esperienze possiamo poi non parlarne non è per un bando come si chiama il bando te la spiegate no no il bando è un'esercitazione è presa è presa da parte di bandi non ho capito c'è un bando no no l'esercitazione consiste nell'analisi di un bando ma non è il bando come ci sono sì un dopo certo ci sono tanti hanno preso dei temi legati a quelle che erano le tematiche trattate legate poi io in realtà ho guardato anche se c'era qualcosa però non ho trovato adeguato quello che è insomma collegare il discorso teorico alla problematica anche perché il tempo poi se si prende un bando no un bando poi dopo i bandi sono molto vanno molto nel dettaglio quindi anche la fase della lettura ci richiede ci richiede dei tempi che non abbiamo però la cosa che poi ne parliamo magari certo sì ciao di come un'ipotetica in classe sociale autosostenersi con il proprio capitano umano bravo sì siamo qui per pensare cosa possiamo inventare di nuovo cioè dato che c'è lo spazio pure per idearlo per esperienza dopo cioè dopo di tutte le idee di tutti i progetti che voi riusciate a fare a progettare cioè si possono continuare qualcuno poi porta l'idea avanti iniziamo a fare perché comunque la maggior parte di noi ha l'intenzione di magari a parte scambiarsi delle idee confrontarsi affusire delle conoscenze che non ha ecco magari visto che c'è l'opportunità di poter creare un'impresa sociale questo è giusto un'esercitazione per vedere se insieme si riesce ad avere un'idea più o meno comune se un gruppo di persone con un gruppo eterogeneo come questo può tirare fuori un'idea a livello di prova generale comunque niente di ufficiale perché certo anche la condivisione delle varie esperienze può essere no può essere sempre insomma si impara a vicenda sempre anche rompendo questo spazio del microfono delle cose anche proprio parlando in maniera veramente circolare certo l'idea scusa era insomma dello sviluppo socioculturale era proprio perché insomma si potrebbe anche dire che tu puoi prendere chiunque in un'azienda però magari pensando a uno sviluppo legato al mondo culturale potresti avvalerti proprio delle risorse che ti viene qualcuno che profondamente che ha una storia diversa dalla tua e magari che ti aiuti anche nel processo di pensare però in maniera totalmente aperta e propositiva solo per essere dare delle linee e vedere poi cosa ne esce ormai comunque tornando all'esempio che hai fatto se c'hai un negozio un negozio di vendita di biciclette per esempio non c'è bisogno di pensare che l'integrazione dei migrati porta adesso a cercare nuovi mercati all'estero per il momento ti può aiutare nel proprio mercato locale dal punto di vista del business puramente magari potrebbe sembrare un'azienda del genere anche in una città non so un'azienda così con due o tre immigrati che ci lavorano apre questo mercato di biciclette elettrici anche a ragazzi immigrati che vedono una fontiera aperta prima dovevano come chiuso queste cose perché non si avvicinavano perché non si sentivano il suo agio perché integrando lavoratori immigrati coinvolge un'altra comunità c'è una cosa interessante del territorio che c'è la insomma c'è quella parte che si fa una progettazione che è dell'analisi dei beneficiari per esempio in cui tu devi descrivere lo stato della situazione e poi c'è anche tutto quel linguaggio a volte anche veramente pedante l'Unione Europea con cui si scrivono i progetti è comunque importante acquisire in qualche forma poi chiaro che sono dei professionisti spesso che lo fanno però si può fare in maniera anche più creativa però riuscendo a convincere che noi lo facciamo qui lo facciamo a Leverano perché a Leverano c'è bisogno di fare questa cosa quindi questo esercizio è un tipo di scrittura ed ideale delle maniere di scrivere di convincere che noi facciamo questo noi dobbiamo giustificare il perché è questo che penso che nei progetti spesso c'è una gran vaghetta non perché non siano non valgiano però perché bisogna anche esercitare se riuscire ad essere concreti e soprattutto convincenti esercitare anche quella lingua quella retorica volendo purtroppo serve perché purtroppo serve anche le noti delle versioni e mi pare anche è un buon esercizio per schiarirsi le idee nell'ambito si pianifica ma anche si pensa ad essere più concreti cosa ti dico perché è così necessario esatto e poi c'è dell'entusiasmo vero in modo che ti riesci meno penante infatti poi il fatto che siamo che siete tutti della donna magari viene anche interessante vedere come come si elabora questa prima parte come si vedono le necessità eppure questa parte cioè la parte del capire qual è il problema ci aiuta a definire se veramente è un problema perché a volte la base di questi lavori sono delle idee che abbiamo sulla situazione degli immigrati in questo caso per esempio e a volte forse se facciamo un po' di ricerca ci rendiamo conto che non è così cioè che i dati sono altri quindi per forza bisogna fare un lavoro previo più dettagliato sulla situazione cioè su quello che noi pensiamo che è un problema perché a volte può darsi che non lo sia e soprattutto che non sia un problema per le comunità che stiamo che vogliamo raggiungere con voi coinvolgere no al di là della retorica della della cooperazione con l'interazione dobbiamo cercare di vivere con questa attività che andremo a fare nel senso non è che possiamo campare di amore cioè dobbiamo l'integrazione di orvità cercare di guadagnare dei soldi e sovrasvivere e comunque essere sostenibile e sostenibile come ne ha fatto a no non mi viene il nome scusa reati reati amore integrazione transculturalità che è bellissimo allora è un conto è viva sì vivere e far viva sì e dare l'indipendenza magari con questo progetto magari dare opportunità a tutto il territorio di svilupparsi grazie a questo progetto a tutto il territorio in che senso? intendo tutto il mondo no tutto il mondo no il territorio in questione magari non so a base il Salento il Salento ha una potenzialità importante penso le prime cose che mi verrebbero in mente a me da sviluppare nel Salento energie rinnovabili e turismo cioè le prime due cose che mi verrebbero in mente da che hanno potenzialità qui in questo punto del mondo però bisogna vedere come fare cosa fare come inserirsi nel però è una chiave culturale e sociale sì ma infatti dice creare un progetto che sia sostenibile cioè che ci dia un guadagno e in questo progetto riuscire a inserire magari gente che ha bisogno di lavorare gente che può essere forza lavorativa e quindi che può darci e a cui noi possiamo dare sì insomma deve essere cultura sostenibile come diceva lui non possiamo vivere di il progetto ci viene bocciato cioè noi facciamo questa azienda per dare lavoro e basta no però uno può avere sempre l'idea per esempio di fare un business un negozio un locale di qualsiasi di qualsiasi tema e siccome capisci di questi temi essere predisposto all'integrazione per esempio c'è un business case dell'Italia del nord dell'Italia che parla sull'integrazione di cittadini indiani e le persone che sono state intervistate in questi casi sono dei datori di lavoro che hanno un business che di solito sono della ristorazione che si impegnano in assumere cittadini indiani soltanto in condizioni cioè lavoro regolare no niente non lavoro irregolare e loro danno le sue motivazioni per farlo infatti dicono che i cittadini indiani hanno certo atteggiamento che a loro serve cioè che sono persone che hanno un'alta responsabilità che sanno cioè che seguono le ordini che vengono date che sono molto fidabili cioè ti danno una serie di caratteristiche per le quali i cittadini indiani sono giusti per il suo negozio di ristorazione no? ma se va contro una legge sì e no sì e no perché quando fai una legge lavorale diciamo che tu non puoi discriminare per nazionalità cittadinanza per assumere una persona alla fine quello che ti controlla non può sapere le tue motivazioni una persona che capisca del negozio che lui ha sì sicuramente sì 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 no l'immagine e quindi penso che sia quello stesso discorso dalla parte la motivazione dell'immagine dell'istrante cinese dalla parte la motivazione è che questa persona l'indiano ha una certa determinata caratteristica lo so io non sono d'accordo con questa cosa ma neanche io sono d'accordo è diverso di rassumare è diverso di rassumo una certa quantità di persone indiano perché loro sono più bravi a fare qualcosa e poi gli altri impareranno da da questi lavoratori indiani a fare la stessa cosa quindi dipende sempre il negozio che hai ogni situazione ha i suoi particolari infatti pure questi datori di lavoro cioè se parlava di due casi uno nel quale il datore di lavoro era proprio amico dei suoi impiegati e un altro che si limitava solo a essere il datore di lavoro cioè tu lavori con me e non sei il mio amico cioè all'inversa del primo caso dove la moglie del capo era pure amica della moglie di uno dei lavoratori dove i figli giocavano insieme cioè tutta una integrazione totalmente diversa in tutti e due casi però sì cioè sei un'azienda di tre persone cioè sei una micro cooperativa di tre persone tre persone cioè preferireci quello comunque mi sono ah no che uno può avere cioè questo esempio era perché uno può scegliere di integrare gli immigrati perché servono al business no come in questi casi dei lavoratori dei datori di lavoro che preferiscono gli indiani oppure puoi creare un negozio che è propriamente basato nel fatto dell'integrazione diciamo dell'integrazione dei migranti cioè quegli esempi che ho dato io sono puramente business noi quello che vogliamo fare è una cosa diversa cioè che sia una cosa più culturale no no un po' da come da come si vive il territorio no da quelle che si pensano che siano le esigenze del territorio come si pensa sia possibile intervenire quindi sì ovviamente sì ho messo alzato del discorso culturale sì però comunque sono una risorsa che non è mai sfruttata quindi più un beneficio non economico ma tutte e due tutte e due un senso economico non per forza culturale deve essere rimesso però comunque sia un senso economico dell'integrazione con l'idea di riuscire a risolvere o comunque a intervenire attivamente su delle problematiche però attivamente anche in termini monetari non insomma e senza provocare un brain waste no sì ma è vero però capire la necessità di integrazione degli immigrati eppure quali sono le sue capacità da un punto di vista reale cioè non dire in questo caso tornando agli indiani sono stati impiegati in un negozio dove erano sopraqualificati cioè erano presi per alcune qualifiche non quelle del background della formazione l'esperienza lavorativa previa all'arrivo in Italia ma perché hai queste skills che erano più personali no cioè quelle competenze come la puntualità il lavoro nel weekend quelle caratteristiche sono più addeggiamenti che background formazione professionale accademica no e invece qua quello che vogliamo fare è approfittare di tutti le capacità che hanno gli immigrati che vogliamo integrare però non è molto in accordo con quello che dicevate perché la mia era più diretta sia al business sia all'integrazione degli immigrati grazie a loro abilità ma lo puoi fare lo puoi fare non è che comunque sia non è attivente a quello che avete detto io penso magari un agriturismo come tanti ce ne sono qui da queste parti con cucina salentina tipica e inserire magari nel menu prodotti tipici di altre di luoghi africani magari che struzzi che ne ho la simpatia e la curiosità non ho detto che l'aspetto socioculturale scuda no 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 e cibo anzi se puoi includere il cibo meglio però era cioè però comunque ormai che struzzi la curiosità di altra gente che vede questi piatti fatti appositamente da persone che hanno questa abilità cioè perché l'abilità non è che fare un piatto magari esotico non è che ce l'ha un italiano ce l'ha un immigrato ce l'ha è tipicamente fare la carona non c'è pure l'immigrato quindi e quindi le due multiculturalismo non è socioculturale questo aspetto è socioculturale e infatti a me mi sembra molto più interessante che altre attività che di solito consideriamo socioculturali che si promuove no? si si perché non c'è un'immigrato perché non c'è un'immigrato in tutte le lingue come cambia appunto la relazione con una persona cioè se io ti saluto e ho mandato un dondito a quel paese ovviamente non fai altro di accattivire mentre se tu gli dici per il menù una persona sa come stai hai la possibilità di sovrare un rapporto è un paese svuotato è un paese svuotato non c'era pure questa è la valora si a me piace molto anche la la funzione che c'è con l'apparato burocratico e la lotta anche se no dall'interno di istituzioni comunque dal territorio che nonostante tutto non c'è una fine alla fine probabilmente chi la sa si si la parte del burocratico se ci conviene non c'è comunque il discorso della convenienza adesso poi mi prendi un via ma è questa mattina secondo me non è che c'è bisogno di un paese vuoto perché il fattore della convenienza a livello demografico ci conviene sempre in Europa per esempio noi siamo già un paese esportato giovani io quando parlavo di Buenos Aires eravamo prima a pranzo l'impatto che ho avuto sono tornato a Pesaro dopo 7-8 mesi ma non è solo con Buenos Aires però sicuramente è una cosa che in Europa non c'è sono tornato a Pesaro mi sembrava non c'era più un giovane è una cosa che è lampante anche con i paesi arabi in Egitto il 65% degli abitanti è sotto i 26 anni sotto i 26 anni non so quali sono le cifre da noi ma siamo quindi anche a pensare nel futuro così il futuro non c'è non c'è proprio tecnicamente aggiungere? no niente domani faremo un po' di storia che spero vi cioè vi sembra interessante su quello che è stata l'exo degli italiani durante il testito secolo e niente poi cominciamo con il progetto con Simone sì quindi spero io vi darvi domani sì grazie 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 grazie